Ehi. Ehi. Che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. E da Norlondo sai che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. L'impatto come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene. Tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà. Ma fa 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 E' terribile Lo prendo come un complimento Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Ben ritrovati su Wesa Twitch Benvenuti 17 gennaio 2022 Un grazie sincero Subito a Nirvolo Botanica, Orfeo Gabriele Steck, Garu e Krimr Grazie Grazie mille ragazzi del supporto Mai nella vita mi sarei Immaginato di ripartire Dopo due giorni di stop Da 611 Ragazzi, veramente grazie mille Molto molto gentili E benvenuti a bordo Nel caso non foste mai Saliti prima, ma è difficile Inizio live, grazie mille anche a Obamone Grazie del Prime E dei 28, Bella Luca Tu sei uno di quelli con la mitica Icona First Che è un'icona che non O ce l'hai o non ce l'hai Attenzione, attenzione Vediamo di strutturare Vediamo Bella Nikuz Vediamo di strutturare Un pochino Spero siate bene Spero siate in forma Spero siate più in forma di me Perché purtroppo Ho aggiunto Ho aggiunto Un'altra Un'altra Degli altri playoff Nella mia vita Non bastavano i playoff Dell'NBA A non farmi dormire Tra giugno, luglio E così via Adesso ci ho messo anche l'NFL Benvenuto Matteo O meglio Grazie dei 14 Scusa sono rincognoni Grazie mille dei 14 Grazie del Prime E grazie anche a DVCC10 Grazie mille del supporto Ragazzuoli Bene, bene, bene Adesso sono tutto vostro Dobbiamo fare Dobbiamo fare un sacco di roba E in realtà Allora Che cosa volevo dire? Lorma Co Grazie mille del Prime Che cosa vi volevo dire? Allora Abbiamo Di base Io ho pronto Ovviamente Bella Luca Ho pronto ovviamente Mike Buongiorno Nel senso della fenomenologia Però devo essere Trasparente con voi Devo essere del tutto sincero E non sarei accorto nessuno Neanch'io Neanch'io L'avevamo già letto L'abbiamo tipo letto Quest'estate La mitica salme Massimo rispetto per le salme L'abbiamo già letto Quest'estate Mi pare Perché prima Ho tirato fuori il testo E Mi sono Mi sono letto Le prime righe Ma io ho un cazzo di Dejvo Cioè chiaramente l'ho già letto Ma l'abbiamo già fatta Sta gag Oh no Va benissimo Facciamo la rilettura Ma assolutamente Ben volentiere Ma la facciamo senz'altro Però per correttezza Io credo che sia addirittura Una live salvata Nelle letture viola Tipo eco letture Blah blah Non mi ricordo Come l'ho chiamata Però mi sa che L'abbiamo già fatta Questa gag E vi dico di più Aveva ragione Dario Caporuscio Non so se c'è Mi sa che abbiamo anche Già letto L'elogio di franti In ogni caso Sti ragazzi Si ripete volentieri Comunque la fenomenologia Di Mike Buongiorno Ci chiede Veramente Un testo breve Quindi grazie Tzugistrom Grazie mille del prime Anche a te Grazie del supporto Andiamo a platinare Andiamo Loop and roll Andiamo a platinare Il buon Il buon Umberto E quindi E quindi Niente Insomma Vi volevo Vi volevo dire questo Dopodichè vi volevo dire Che vorrei Iniziare A ragionare Sul Almeno una nuova Una nuova emoticon Vorrei mettere Un emoticon Che sia caso Per caso Perché mi è venuto in mente Come si potrebbe fare Cioè l'emoticon Alla fine deve coprire Un quadrato Un piccolo quadratino Quindi si potrebbe mettere La parola caso Pensate che genio La parola caso Ripetuta a due volte Caso caso Una sopra l'altra Tipo In arancione Che di solito Facciamo arancione e azzurro E sopra una x A metà Che viene caso per caso E quindi può essere Una cosa simpatica Non è divertente E quindi E mi piacerebbe fare Una cosa del genere Mi domandavo questo Qualcuno di voi La saprebbe fare? Non so se qualcuno di voi Sia in grado Di fare una cosa del genere E E grazie mille Andrea Grazie del Prime Se qualcuno è in grado Di fare una cosa Di questo genere Più o meno Con una grafica Che ricordi Non c'è bisogno Di una grande coerenza Che ricordi Le altre Tipo Cosa abbiamo Se siamo capiti E cose di questo genere Si potrebbe fare Un caso per caso E frasi più lunghe Più lunghe Più lunghe È molto difficile Inserirle in una Vedete già se siamo capiti In realtà poteva avere Meno spazio vuoto Perché in realtà Bastavano i colori Per separare le parole È una gag Vedete che non c'è Molta coerenza grafica Però insomma Possono andare Alcuna cosa di questo genere Grazie mille Frank Grazie del Prime Patrick Mahomes Ho visto Ho visto Ho visto Se volete Parliamo anche di Di NFL Ma lì siamo veramente In due Ad essere interessati Mi sono letto Dei pezzi Sul manifesto Scritti da Echo Sotto lo pseudonimo Di Dea Da luce In cui rispondeva Pasolini Sul tema dell'aborto Come dicevi tu Una delle cose belle di Echo È che fa davvero ridere Dragon Judgment In un vecchio video Dicesti Io sono convinto Che la stupidità Non esista Se non in casi eccezionali Dopo tutto questo tempo Hai cambiato idea La verità è che no La verità è che no Grazie a Orbut Grazie mille del Prime Sarei tentato Di dirti di sì Ma se ti rispondessi sì A questa domanda Gliela avrei data su Alla specie umana Invece Lo vedete No lo vedete L'unico modo Per fermare L'oscillazione Fra il cazzeggio E il martirio È fare Sono giunto a questa conclusione È fare Una emulsione Di cazzeggio e martirio Quindi Questa nuova Questa nuova avventura È una emulsione Di cazzeggio e martirio Grazie mille Claudio Grazie del Prime Traballiamo Traballiamo L'introspezione Non credo Nell'introspezione Ti consiglio Di recuperare il mio video Come conoscere se stessi E migliorare la propria vita Titolo del cazzo Sembra una presa per il culo Però vedrai che il video Non è una presa per il culo Sta su Weza Channel E parlo proprio di questo Non ho votato Per l'All Star Game Ma non bisogna Loggarsi quest'anno Nel sito dell'NBA Un casino Weza Io dico questo Io dico questo Dico quello che ho detto Anche a un amico in privato Chissà se c'è quel Quel coglioncello Dico questo Se I Cardinals Battono i Rams Bredi Va al Super Bowl Se no Secondo me Ci vanno i Rams In ogni caso Il Super Bowl Lo vince la vincente Fra Bills e Chiefs Questa è la mia La mia previsione Com'è se ci prendo Se hai fatto Ah ho capito adesso Alexander Ho capito Scusa Non ce la posso fare Non ci posso arrivare Sono molto molto Sto dormendo poco A causa Come sempre Degli sport americani Farei meglio Io farei prima Trasferirmi negli Stati Uniti Comunque davvero Che ne pensi La stand up comedy italiana Non la seguo tanto Ti devo dire la verità Damiano Sono piuttosto ignorante Quelle poche cose Che abbiamo visto Mi sono piaciute Di quello Quello che ha la felpa Come la mia Non mi ricordo Era stata simpatica Quella cosa che abbiamo visto E poi Non saprei che altro Su striscia la notizia Siete seri Su striscia la notizia Ho fatto un video Era Rappone Sì 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 Ho fatto un video Se nel caso vi interessasse Su Wesa Channel Ho fatto un video Su striscia la notizia Una volta Pensate un po' Quindi se lo volete vedere L'azienda è come una famiglia Ma soprattutto La cosa che mi ha sorpreso di più È scoprire che l'azienda È fatta da persone Da esseri umani Io ero sinceramente convinto Che le aziende Fossero composte Da cani Gatti E robot E quindi Gratis Perché si pagano Le consulenze Gratis ho ricevuto Una consulenza importante Al di là delle gag Di quella Di quella roba lì Non mi interessa Tanto Tanto continuare Continuare a parlare Insomma C'è 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 Falco Nero Che è una persona Molto arrabbiata Con me È una cosa Di cui prendo atto E non si può piacere a tutti Non ci si può sempre Incontrare nell'amore E su una cosa Io e Falco Nero Siamo incredibilmente Non d'accordo di più Menarla per le lunghe Quando non ci si intende Non è Non è sensato Quindi guarda In realtà mi sono trovato Ma lui aveva dichiarato La fine della conversazione Io gli ho lasciato la parola Perché era il suo canale Non ci manca solo Che vada ancora Menarla per le lunghe Poi ho visto Che in realtà La conversazione è continuata Ma non sono neanche Andato ad aprire Perché non Non mi interessa Diciamo che È stata Una Una esperienza Interessante E molto sorprendente Perché non mi sarei Mai immaginato Di essere Affrontato Così Da un personaggio Pubblico Diciamo così Cioè Un insulto Più o meno Ad ogni frase Che sia esplicito O implicito Un Ad hominem Costante Essere trattato Come un Un poveraccio Ci sta Mica uno è tenuto A stimarmi Ma ci mancherebbe altro Essere trattato Così sono abituato Non abituato Ma capita Una volta Ogni 5-6 mesi Da L'utente Anonimo Invece Mi ha molto sorprendente È stata un'esperienza Sorprendente Ricevere Tutte quelle carinerie Che cosa Che cosa volete Che vi dica Va bene Così Insomma Non ho Non ho nulla Grazie Samuele Grazie mille del Prime Non ho nulla Nulla da dire Cioè io Quello che dovevo dire L'ho detto Non voglio andare Ad aprire la discussione Leggerla tutta Analizzare ogni cosa Perché sarebbe Non che non ha nessuno scopo In realtà Quindi va benissimo così È Mi ha molto colpito lo stile Mi ha molto colpito lo stile Mi ha molto colpito scoprire Che questa persona Che io non conosco È arrabbiatissima Una cosa l'ho capita Questa persona È molto arrabbiata con me E ci sta Perché uno non dovrebbe Questa persona È estremamente arrabbiata con me Ma all'inizio pensavo Quando mi Chiaramente Mi ha accusato Di tutte le Specchio riflesso L'avete mai sentito? Cosa si faceva Alle scuole medie Specchio riflesso Quindi È come dire al Papa Che è Ateno Mi ha detto Che sono Allora Dal pulpito Traballante Un propagandista Spaccio verità Assolute Ovviamente Bambini State lontani Da me Che vi travio Ne ha dette tantissime In realtà Non me le ricordo neanche Però insomma Me ne ha dette Di tutti Di tutti i colori Sono un Quando ha detto Ma lì la conversazione Era già finita Ma mi è stato detto Che l'ha detto Mi ha dato Dell'evangelizzatore Lì ho capito Che in realtà Lui mi conosce Non che non mi conosce Perché evangelizzatore È una cosa su cui ho battuto Più volte Quindi in realtà Mi conosce bene questo O comunque Ha un'idea ben precisa Di quello che io dico Nelle live E quindi è quello Che pensa Di dirti la cosa Che ti triggera Ma è talmente assurda Che diventa comico Ed è un'altra Un'altra Di quelle persone Che Tra le tantissime Che ovviamente Parli di ciò Che non sai Poi con un paternale Ti parla come se tu fossi Suo figlio Capito Come se fossi Un poverino Naturalmente I grandi segreti Le grandi verità Che lui custodisce E io non posso Alle quali io non posso attingere Possono essere rivelate Soltanto attraverso Una consulenza a pagamento Testuale Non me lo sto inventando Ok va bene Una consulenza a pagamento Che sarei curioso di pagare Per scoprire su che Cos'è la consulenza Se ci pensate Da un punto di vista Del marketing È una cosa Che mi è interessata tantissimo Vendere consulenza a pagamento Su non si sa bene che cosa Così c'è ancora più Più gusto a pagare E quindi L'ho trovato Grazie mille Asteca E grazie mille del Prime L'ho trovato L'ho trovato interessante E poi ho scoperto Che le aziende Sono fatte da persone Che Sono come una famiglia Che non ho capito Come questa cosa Sia contraria ai miei argomenti Che sono la scoperta Dell'acqua calda Ma sono al tempo stesso Sbagliati E Ho scoperto Che i doni Tipo i giochi in anteprima E cose del genere Sono un vantaggio Sono un privilegio Solo per chi li fa Ma non per chi li riceve Quindi accettare quei doni È generosità È sbattersi per averli Perché ci vuole duro lavoro Ed è sicuramente vero È lo fai per fare del bene Alle aziende E alle persone Le aziende sono persone Quindi non le devi chiamare aziende È soprattutto una serie di cose Di cose particolarmente interessanti Raramente Raramente Sono stato appostrofato Con tanta aggressività E tanta voglia di umiliarmi In ogni frase Un implicito di Come posso dire Derisione Umiliazione Ridicolizzazione Del sottoscritto Ho scoperto Che questa persona Gli sto sul cazzo Ma profondamente Non da ieri Perché comunque Lui stesso ha detto Che io mitraglio Su questi argomenti Su decine di persone Da mesi Non ho capito Perché si definisca Mitragliare Dire la verità Ma comunque Non importa E poi cos'altro Ho imparato Ho imparato Che Il mondo è bello Perché è vario A me non In realtà Vi dico Paradossalmente È meglio così E quindi E quindi Niente Insomma No 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 Sotto Sotto quel suo video No ma non mi interessa 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 Assolutamente Non mi interessa Assolutamente Ma a me non interessa Nulla Cioè Mi ha molto colpito Il fatto Che una persona Pubblica Usi Un tono Di questo Sono rimasto Veramente Basico Non me l'aspettavo Sinceramente Ma se non altro Per essere Educati Cioè Una simile maleducazione Da una persona Che non conosci Di cui Non è che non sapessi L'esistenza Ma sapevo nulla Di questa persona Mi ha molto colpito Cioè scopri Che c'era un tizio Che ti odiava E non lo sapevi Ma gli stai veramente Sul cazzo Ma parecchio sul cazzo Però per il resto Cosa devo dire Non è stato informativo Parlare con Pur essendo lui Il detentore Di quelle informazioni Che io bramo Per capire Ciò che non capisco In realtà Non è stato minimamente Informativo Non mi ha detto niente E questa cosa Mi fa pensare Alla bellissima canzone Di James Brown Talk rifatta Dai Living Color In una versione bellissima Che vi consiglio Di recuperare Talking loud And saying nothing You're just talking loud And saying nothing And saying nothing Il funky Ragazzi La risposta è sempre Nel funky Ricordate Però se Una cosa Se ci sono Delle cose Interessanti Intorno A questa Questione Ragazzi Per quanto Mi sia stato dato Dell'evangelizzatore Come sapete Queste live Sono in realtà Fatte Per discutere E quindi Poi mi ha anche detto Sofista Sì sì Sofista Penso che Delle cose Che mi ha detto Mi ha anche detto Ti do il consiglio Di non parlare Più di queste cose Ma so che Non lo seguirai Se non sbaglio Questo è uno Dei tratti Meravigliosi Del tuo carattere Una cosa di questo genere Ma l'ho parafrasato Quasi giusto Wow Non è riuscito A fare tre righe Senza Riferirsi alla mia persona Mazza Io non ho nulla Da dire Sulla sua persona Nulla Non lo conosco Non so niente Di questa persona Non so assolutamente nulla Mi ha Veramente Wow Però una cosa Che mi ha detto Ovviamente In un paternalismo Di quelli proprio Figliolo Ti spiego la vita Ma solo La parte gratis La parte a pagamento Mi dovresti pagare Mi ha detto Nonostante tutto Ti reputo una persona intelligente E io penso Io quando Quando una persona Di questo Con questa Con questa strategia Comunicativa Ti dice Nonostante tu Tra un insulto Una denigrazione Una ridicolizzazione Un'umiliazione Ti dice Ti reputo una persona intelligente Io mi domando sempre Scusami Però io non ti conosco Tu mi tratti così E va bene E va benissimo Ma trattami come ti pare Ci mancherebbe altro Perché io dovrei dare importanza Al fatto che tu mi reputi O meno intelligente Cioè per quale motivo Il tuo parere Sulla mia intelligenza Dovrebbe essere per me rilevante Questo è una dica Perché Perché hai ritenuto Di dirmelo Cosa me ne frega Ma ritenimi come vuoi Sono quelle cose Che mi lasciano sempre Sempre così Poi il pulpito Traballato Perché io ho chiesto Un sacco di cose Io ho chiesto Ma perché il mio è un pulpito Ma è il pulpito il mio O sono tutti pulpito E perché il mio pulpito È traballante La sedia è salda Ragazzi Ho delle sedie di qualità Sì lì è stato fantastico Lui naturalmente E giustamente Per quello che ne so io Ma non ho nulla Ma io non ho nulla Da dire su di lui Lui mi ha detto Che Ha tenuto a dire Che lavora duro Ma io non ho dubbi Su questo E tanto di cappello A lui Ma ci manca solo Che io abbia qualcosa Da dire Però questa cosa L'ha rimarcata molto forte Allora io Anche io ho studiato Per parlare Insomma Non è che sono un perdi giorno Ho studiato molti anni A me è questa cosa Che devi sempre mettere davanti Chi sei Cosa fai Qual è il tuo curriculum Prima di parlare Non mi interessa Cosa uno dice Però vabbè Ho studiato molti anni Non sono un perdi giorno E lui fa Perdi giorno Ma io non intendevo Darti del perdi giorno Ho forse toccato Un nervo scoperto Ogni cosa Ogni specchio riflesso Ogni cosa che dici Sarà usata contro i testi Le scuole medie Ogni cosa Io sono rimasto Veramente Allibito Per il fatto Che queste cose Te le aspetti Da Da quegli utenti Che arrivano a insultarti Incazzatissimi Perché gli hai toccato Qualcosa Invece Perché Perché no Perché no 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 È tutto in pubblico È tutto in pubblico Ma certo Porca locca Certamente sì Poi non so Se ha fatto degli edit Ci sono ragazzi Che mi hanno scritto Ma potrebbero essere Dei millantatori Ragazzi Questa cosa Questa cosa Spezzo veramente Una lancia A suo favore Ma mi scuso Anche con questi ragazzi Non si sentono Però ci sono dei ragazzi Che mi hanno scritto Dicendomi che sono stati Bannati Da lui Senza averlo minimamente Insultato In quelle conversazioni Questa cosa Non è dimostrabile Quindi Non lo so In ogni caso Falco Nero Sotto i video Di Falco Nero È a casa sua Fa quello che gli pare Banna Chi gli pare Seguendo i criteri Che vuole Lui ci manca Solo che sia io A rompergli sulle balle Sul sacro diritto Di bannare Chi gli pare E piace Senza doversi giustificare Questa cosa Ci tengo a dirla Proprio Totalmente Comunque Il mio errore È stato È stato Andare Andare a scrivere Quel Dopo che mi aveva insultato Dandomi Del tizio Che parla dal pulpo Eccetera eccetera Sofista È stato Oddio Spero di aver premuto Nulla di male È stato lì Ad andare Semplicemente a notificare Guarda l'ho letto Ho scritto Ma pensa E lui Dopo che ho scritto Ma pensa Ha scritto Ah guarda La tua loquacità È proporzionale Alla vicinanza Dal tuo pulpito Allora Rispondiamo Scriviamo qualcosa Sembra Allora L'errore è stato quello Pace Ma sì sì Ma è tutto Un principio di autorità Tutto un principio Allora Principio di autorità Ovviamente Come si dice Strowman argument Strowman fallacy A go go Perché io sono Quello che ritiene Che bisogna essere puri Guardare le cose Dall'iperuraneo Neutrali Perfetti Eccetera Eccetera Perché ovviamente Si fa di tutta erba Un fascio Fra conflitto di interesse Qualunque altro tipo Di cosa che ti possa influenzare È la stessa cosa E poi Principio di autorità Questo È a dominem Costante Tutto sulla mia persona Su come sono io Su come ragiono io Quello che faccio io Eccetera Però Però da quello che ho capito Per rendergli atto Cioè io tutto questo Me lo merito Perché ho mitragliato Per mesi Su decine di persone Che lavorano Una cosa che voglio dire Alle persone che sono Triggerate dal fatto Che mi sono occupato Di questa cosa Ecco ragazzi Ma state tranquilli Ma che cazzo ve ne frega No ma sul serio Basta ignorarmi Lo so che è uno strano Consiglio da dare Ma Non cambierà mai nulla Sì Io mi auguro Che ci sia Un risveglio Delle coscienze E lui stesso Deridendo la cosa La scoperta dell'acqua calda La gente che cade dal perro E si vede Che sta scoperta Della acqua calda A qualcuno serviva Ma non succede niente Non ho il potere Di toccare nulla Di quello che fate Ma state tranquilli Ma che cazzo ve ne frega Cioè Lo trovo Lo trovo veramente Mi sembra comunque Mi sembra comunque Una iperreazione Ma che ti frega E certo Ora ogni tanto Avrete delle persone Che vi faranno notare delle cose Magari questa cosa Vi rompe i coglioni Ma ragazzi Si bannano con un click Dico sul serio Non Non sopravvaluterei Quello che sto facendo Quello che ho fatto In queste tematiche Spero che alla lunga Si sviluppi una nuova sensibilità Che renda l'Italia Eh sì Vabbè qua si sogna Che presidente Della Repubblica Stiamo per eleggere Comunque in un mondo ideale Spero che alla lunga Non certo Solo partendo da me Serve ridicolo L'Italia Arriva ad avere una mentalità Un pochino Più anglosassone E meno italiana Per citare Stanisla Rochelle Sul familismo Del mondo degli affari Eccetera Eccetera Grazie Lupinroll Grazie mille del Prime E quindi Però in tutto questo Detto questo Io non ho nessun problema No no Candido Non mi hanno A un certo punto Sono diventate comic Cioè se tu continui a dire a me Sostanzialmente Che sono un pifferaio Questo lo dico io Non è un termine che ha usato lui Ma la sostanza è quella Che sono un pifferaio magico Che Sono praticamente uno Che travia le persone Seducendole Dicendo stronzate Eccetera eccetera E sono di fatto Un dogmatico Che parla per verità assolute A un certo punto Boh Non lo so Magari non me ne accordo Però mi sembra di non essere E quindi A un certo punto Sembra una comic Cioè non Non mi interessa Grazie Desmondo Rotondo Grazie mille del supporto Non ho ricevuto nessun vantaggio monetario Da Every Eye Ci tengo a dirlo L'ho fatto Non ho ricevuto nessun vantaggio Da Every Eye Ma Economico Ma poi lui ha una strana idea Del valore economico Delle copie In omaggio Insomma E in pietà Per aver rinnegato Gli dei della città E aver provato a introdurne Dei nuovi E di corruzione Dei giovani Che seguivano la sua dottrina Sei troppo buono Martino Questo è un po' Troppo carino Questo è stato troppo Troppo carino Grazie Consigli il secondo diario minimo Di Eco È peggio Rispetto al primo Ma è molto più divertente Sono da straleggere Tutti e due Fa molto ridere Il secondo diario minimo Consigliatissimo Consigliatissimo Fa molto molto ridere Grazie Nicart Grazie mille del Prime Hai messo in crisi E che ognuno Ognuno ha percezioni diverse Quindi Non credo neanche Nella stupidità Come dicevamo prima Quindi Bene Bene Buono Beh Non sottovalutare Ciò che hai fatto Dopotutto L'argomento Si è diffuso un sacco Dopo il tuo video E le tue live Se tutti hanno da giustificarsi Con un video sul loro canale Evidentemente Non tutti assolutamente Non è una strategia furba Da un punto di vista Della comunicazione Evidentemente Hai smosso parecchio le acque Il pubblico Ha cominciato a farsi domande Sì sì no no Ma è un'ottima cosa Ricky Mar Ma io sono molto contento Ah sì sì Ma certo Pepper Ma comunque Sono cose che stanno fuori di noi Attenzione L'infanzia E tutto quanto E tutto ambiente E grazie David Grazie mille Grazie mille del supporto Io ti consiglio Ti consiglio Fatto valore di Patnam Non parla direttamente In realtà anche di estetica Ma è proprio il tema Su quelle cose lì Facci caso Se no ci sono le forme Del contenuto di ECO Se proprio vuoi andare A ritroso Ma prendi Fatto valore di Patnam Di Patnam Che in realtà Parla anche di quella cosa lì Di un libro della Madonna E lo trovi forse Sul Weza Shop Non me lo ricordo Le basi di un pulpito E quindi E quindi così Però in tutto questo Se ci sono delle Delle argomentazioni Se ci sono delle cose Di cui vogliamo discutere Molto volentieri Ora Io Naturalmente Sono una persona limitata Però queste live Sono per discutere Ovviamente Non è che possiamo stare Sempre qua A guardarci Molto virtualmente Negli occhi A un certo punto Si prende un testo Lo si legge Lo si analizza Però Ragazzi Discutiamo Discutiamo Di quello che vi pare Quindi essenzialmente Questo è un canale di critica Questo è un canale di Pensiero critico Non ho visto Macbeth Mi sono dimenticato Incredibile Sono riuscito a dimenticarmi Di vedere il film Che volevo vedere Incredibile Casco dal Perug Lo sapevo Me l'aveva detto Tepic Non sono riuscito Dice Volevi guardare Più cose riguardanti La matematica Mi leggo Molta roba E certo Gauss Perché ci vuole qualcosa Che sia ragionevolmente breve Ragionevolmente comprensibile Che possa essere Un po' interessante Da discutere Per dei profani Non è facile E anche giusto Che non sia facile Stasera proviamo Il watch party Sì 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 Adesso cambierei Argomento Quando voglio Siamo sicuri È su Apple Plus Sì 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 È su Apple Plus Ma mi hanno detto Che se fai la prova Grattis Te lo puoi sparare Insomma Queen o Beatles A me me lo chiedi Io sono stato Un fan Vero fan dei Queen Che non ne hai un'idea Voi non avete idea Di quanto io sono stato Fan dei Queen Credo che i Queen Siano una delle cose Di cui sono stato più fan Nella mia vita Forse la cosa Di cui sono stato più fan Altro che Senna O che cazzo ne so No Senna Prima posto Senna Poi Queen Non lo so Tiz Adesso non ho voglia Di stare dentro Più divendrà a me Non lo so ragazzi Adesso Aspettiamo Aspettiamo un attimo Allora Detto questo Di che cosa dovevamo parlare Del watch party Sì sì Tanto ragazzi Eco non ci prenderà molto tempo Scusate ti leggo Giorni fa parlavi di come Le pressioni aziendali Siano anche indirette Non palese Esperienza personale Anni fa lavoravo Nell'ambito delle recensioni tech Ricevevo prodotti Venivo invitato eventi In giro per l'Europa Seppur non abbia ricevuto Pressioni esplice Vi posso dire che Il capo della divisione italiana Di Huawei Sapeva quale modello Di smartphone Mi portavo in giro Come telefono personale Ricordo che un evento mi disse Ho visto chiusi ancora Il nostro telefono Vabbè Non caschiamo Dal pelo Scusatemi Sì sì certo Prince Ma lì poi A me non me ne frega niente L'aspetto giurisprudenziale Mi interessa l'aspetto Vogliamo chiamarlo morale Quello mi interessa Non sono un tecnico Da un punto di vista giurisprudenziale Non me ne può fregare Cioè nel senso Non mi permetterei mai Se un'altra cara critica Che vive di sponsorizzazioni Presuppone una certa malafede Ed è per questo Che molti si triggerano Forse sarebbe più sensato Introdurre degli strumenti Per leggere la coerenza interna Da linea editoriale Ok Il conflitto del re Rimane problematico Anche dopo che il lettore Della critica Rimane problematico Anche dopo che il lettore Della critica Cristiano ti sei mangiato Una parola Non riesco a capire Cosa hai scritto Non riesco a capire Cosa hai scritto Scusami No Gauss Scusa Cristiano Dopo che il lettore Della critica Ha giocato il gioco Dici una cosa Di questo tipo Rimane problematico Ma In che senso Cosa succede Dopo che hai giocato il gioco Cosa succede Al conflitto di interessi Dopo che tu hai giocato il gioco No Silvio Grazie Rocco E grazie del Prime Ora dobbiamo discutere Di stasera Se siamo pronti Per parlare Del watch party Ah sì Samuele Me l'avevi Aspettami un attimo Ah l'evidenza scientifica A favore dell'esistenza Di di Madonna Oro Questo è oro Questo è oro Samuele Lo sai Che questo è veramente oro Sarebbe Sarebbe figo Sarebbe figo Sarebbe figo Allora Discorso watch party Grazie Grazie Satori Per l'abbonamento E' stato regalato A wealth Grazie mille Sì Dai Max Paolo Sì Discorso watch party Se volete Ma sì Cristiano E' la sensazione E' una cosa Che è una cosa che I do me And I chill That's it Che cosa dice Loris Me lo vuoi un po' Ci vorrebbe un link Ma adesso Non so se ho voglia Ditemi eh Sul discorso Del watch party Di stasera Allora Noi lo dobbiamo provare Se è bello Diventa un appuntamento fisso Se è una stronzata No La cosa migliore da fare La cosa migliore da fare Sarebbe guardare Qualche cosa di breve Grazie mille Sonare Grazie del Prime Parasocializzi Parasocializzi E fai bene Ci vorrebbe qualche cosa Di breve Breve Non so Non due ore Insomma Ci sarebbe qualche cosa Di breve Ma Come posso dire Figo Interessante E che non fosse L'inizio di una serie Perché sicuramente Apriamo puntata Di una serie Poi non lo facciamo più È un po' un problema Ma lo capisco Pokercess Lo capisco perfettamente Vabbè Secondo te Perché nessuno Di quelli Che si sono sentiti Tirati in ballo Dai tuoi video Ha semplicemente Ammesso di essere In conflitto Di interessi Alla fine Visto lo spirito Critico medio Dei fruitori Non credo Che si pagherebbe Molto Un'ammissione Di questo tipo Ma in realtà Non ci sono state Neanche tante negazioni Tipo Fossetti L'ha messo candidamente Ecco una cosa Che mi ha colpito C'è un piccolo discorso A margine Che voglio fare Che ci sta Scusatemi Solo un secondo Adesso poi ci occupiamo Di watch party Ragazzi La fenomenologia di eco Ci occupa pochissimo Un piccolo discorso Che voglio fare È questo Tu sei esposto online Ed esprimi le tue opinioni Giusto sbagliate che siano Dici le tue cazzate Non esiste Questo ci tengo a dirlo Nel caso Ho capito Giuse Ma Raiden fa quello Che preferisce A me non interessa Quello che le persone fanno Nel senso Ognuno fa quello Che gli pare Raiden tra l'altro Stiamo parlando di una Delle persone più esperte Di videogiochi Che abbia mai conosciuto Nella mia vita Oltre ad essere Una persona molto in gamba Raiden è veramente Un esperto Veramente una persona esperta A mio modo di vedere Dei VG Comunque Che cosa vi volevo dire Il discorso di esprimere Un'opinione Online Non esistono opinioni safe Non esistono opinioni safe Questo ci tengo a dirlo Ovviamente fai un discorso Come conflitto di interesse Ciao C'è lì È logico Ma una cosa che ci tengo a dire È questa Non esiste l'opinione Che ti mette al sicuro Da Invettive Mangiamenti di faccia E cose di questo genere La gente che proprio Ti aggredisce Le aggressioni non sono I vaffanculo Sono quelle cose Proprio Volte a De legittimarti Umiliarti Eccetera Eccetera Non esiste Che voi possiate dire Qualcosa Che sia al sicuro Da questo Neppure Se tutti amano Fate finta un film Un videogioco Quello che vi pare Tutti lo amano Tutto il mondo lo ama E uno fa il video In cui lo ama Faccio per dire State sicuri Che arriverà la persona Con un suo commento Quello che è Che vi vorrà Umiliare Portare a scuola Radere al suolo E farvi capire come lui è Intellettualmente Vostro padre E ora vi insegnerà Come stanno le cose Tu sei veramente L'ultimo Non sarete Grazie Nico Grazie mille Del Prime Non sarete mai al sicuro Da questo punto di vista Non esiste Non esiste Quindi Questo è Questa è una cosa Da tenere presente Ma guarda Ti dico Frank La cosa che mi fa ridere Del discorso Del cerchio bottismo È che tanto non sei safe Cioè in realtà Tanto vale essere Dire sempre quello che si pensa Perché comunque Non c'è I vitelloni È una bellissima idea Apro e chiudo parentesi Ma adesso la riapriamo Non sei mai Assolutamente Mai safe Se no ci sarebbero Credo ci siano anche Ci sia anche il decalogo Di Chieslowski Adesso vogliamo fare Tanti visualizzatori Bella Spazi attorcigliati Un saluto a te carissimo Sì 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 Non c'è Non sei mai al sicuro Da quel punto di vista E quindi Quello fa parte del gioco Secondo te Come si può sostenere Un'opinione contraria Senza sembrare un padre Che vuole istruirti Su qualcosa Trattando una persona Con un rispetto E senza Cercare di umiliarla Non so Su questo non sono accordo Per questo Questo è quest'altro motivo Fino Che sia così Citizen Kane È vero È l'ammiccante È l'ammiccante È l'ammiccante Sì 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 Vediamo 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 È un peccato che in Italia Non esista una critica Di divulgazione Capace di giudicare Un gioco A livello di Game level design Da un punto di vista Della produzione È come dire che Non ci sono critici musicali Capaci di suonare Uno strumento Io lo capisco Però è anche molto difficile Nel senso che La produzione videoludica È qualcosa di molto complicato Che richiede tantissime Professionalità diverse Letteralmente Dovresti chiedere A uno sviluppatore Qualunque punto Tu lo vado a collocare Di fare anche il critico Ed è molto difficile Avere tempo Quindi secondo me È molto più facile Che ci sia separazione Fra le due cose Proprio perché Si tratta di conoscenze tecniche Che vanno Che sono molto vaste Se tu le volessi avere tutte Faccio per dire O comunque Avere un quadro complessivo Quindi E non pensi che La situazione di stallo Italiana sulla politica Disillusione i non votanti I non votanti A me non interessano Sia proprio perché Abbiamo l'impressione Di vivere una democrazia Fantoccio Sono d'accordo Su quello Ma A me i non votanti Chi non vota Sono cazzi suoi Non sono realmente Presi in considerazione È solo retorica Quella sugli astenuti Non gliene frega un cazzo nessuno Quando si sostiene un'idea Si dà sempre l'impressione Di voler persuadere Certo ed è così Quindi si sempre rischia Di essere percepiti Come esseri Ah beh in qualche misura Sì Alvest Non dico mica Ma insomma c'è modo e modo Poi Per carità Ci possono sempre essere Delle Delle Beh anche io sbaglio Tante volte Non c'è Vorrei evangelizzarvi O rendervi i miei fedeli Madonna se sbaglio Madonna se sbaglio Differenza tra il fare critica E costruire un pensiero critico Come tu hai già evidenziato Una critica ad Evangelion Si ha ormai la sensazione Di omologare la critica Ad un modello socialmente accettato Secondo prescindere L'idolo di tu Sì sì Sono d'accordo Sono d'accordo Ma quella che faccio io Tra le altre cose Credo di aver capito Che secondo Non so se falconero o altri Io ho un piano Tutto questo fa parte Di un mio piano Di un mio disegno E quando qualcuno Pensa che io abbia un piano A me piacerebbe Che me lo dicesse Qual è il piano No sincero Se voi pensate Sincero ragazzi Stono sincero Se voi pensate Che io abbia un piano Dittemi qual è il piano Per piacere Perché mi farebbe Esatto Mi farebbe piacere saperlo Perché le persone Probabilmente sottovalutano Quanto io vado a Vada a cazzo Molti di voi l'hanno capito Quanto vado a cazzo di cane Ma in generale Che si pesa Che io abbia Chissà quale disegno In mente La conquista del mondo No il discorso Dell'isola felice Sì L'isola felice Sì È un piano Mi piacerebbe Mi piacerebbe Che lo fosse Ma in realtà È già realizzato Invadere Livorno L'Oghiotobi Luttazzato Paradossalmente Realizzato Comunque come dicevo Io ad esempio Non ho Ma non so se c'è bisogno Di dirlo Non ho neanche Ci pensiamo magari Un'altra volta Tiz Tanto torneremo Sull'argomento Non seguirò il consiglio Di non Non occuparmi Grazie mille Omino Scusami Grazie del Prime Cosa volevo dire Io non ho nessuna ambizione Di essere un Critico Videoludico Critico Cinematografico Eccetera Non mi interessa Se mi capita Lo sono Ma se no Io sono Come tanti altri Come chiunque Faccia filosofia Sostanzialmente Sono un metacritico Quindi a me Interessa più In realtà Applicare strumenti Del ragionamento A variare Che possono anche Essere singole opere Che è una cosa bella Però Chi si occupa Di critica Videoludica Stia tranquillo Che io non ho Nessuna intenzione Di fare un'opa Alla critica Videoludica Italiana Soprattutto Che Più con il tempo Capisco Ma Anche discutendo Molto Con persone Che ci sono Molto dentro Al mondo Dei videogiochi Più capisco E più penso Ma manco Ma manco Morto Esatto Luca Esatto Campare Sopravvivere Diciamo Se sopravvivere È un piano Ho quel piano Siamo sempre In piena evasione Da questa società Sempre più orribile Ma ci proviamo No Prince Non mi interessa Ma sì Guru Però La cosa La cosa sorprendente È stata che fosse Un personaggio pubblico Ma Lo schema Inizia ad essere Reiterato Tante volte Lezione imparata Poi mai imparata Perché continuo a infilarmi Ma lezione assolutamente imparata Cioè la cosa mi è chiara A volte si sbaglia Però la cosa mi è chiara Uno dei problemi Da critica musicale Nel mondo Della musica classica È che spesso Il critico predica sempre Come se fosse in prima linea Di ciò che Non vive direttamente La professione performer dal vivo E quella di critico erudito Sono cose ben distinte E sono in casi rarissimi coincidute Ma credo che sia inevitabile Samuele Credo che siano mestieri diversi Che fanno cose diverse E si rivolgono a volte Anche a persone diverse Non credo che un critico Debba essere un tecnico Perché essere davvero un tecnico Non ti lascerà mai tempo Di essere un critico Perché essere un critico È una tecnica Quindi c'è molto da studiare Per essere un critico Già di per sé Quindi Parlando di critica Interessante come il metodo Di istruzione Che abbiamo Ma anche di senso critico E pragmatico E per esempio Ho imparato a ragionare Ma sicuramente Ma sicuramente sì Ma sicuramente Ma è il solito discorso Del fatto che Quello di cui avremo bisogno tutti È cultura scientifica Perché poi è da lì Che si sviluppa Secondo me Un vero pensiero critico Che uno dice Non c'entra un cado No no È proprio da lì Che si sviluppa Un vero pensiero critico Questo discorso sull'Italia L'abbiamo già fatto Centomila volte Cioè siamo proprio In difficoltà Storicamente Abbiamo dei problemi Abbiamo avuto Una fondazione Molto sbagliata Della scuola Mirko Che ti faccio Riassunto Di tutte le puntate precedenti Per te Recupera Anche l'ultimo DVD Qual è l'ultimo DVD Allen Angelo? Non mi ricordo Se l'ho visto Giovannona Cosciano Rifkin Festival Non l'ho visto Non l'ho visto Non l'ho visto Lundini l'ho visto Abbiamo visto delle cose divertenti Molto ninofrassica Di cui se non erro È stato autore Ma non so se questa cosa sia vera C'è anche fascisti Su Marte Anomalisa Bello Non l'ho visto Però me l'hanno raccontato In realtà So di cosa parla E mi piacerebbe molto Vederlo Credo sia bello Interessante Ma certamente sì Ma certamente sì Autore di ninofrassica Di Lillo e Greg Ci sta anche con Lillo e Greg A pensarci bene Sì 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 Natale Che libri consiglieresti Ad una persona Che vuole imparare Il pensiero critico Su tutti E lo trovi nel Wesa Shop Miti d'oggi Di Roland Barthes Su tutti Quello è il libro Che consiglierei Veramente su tutti È un consiglio Anche molto facile da dare Ah beh Il grande il Bobski Ragazzi mi chiamate a nozze Però tipo Cioè Facciamo tre ore di live Siamo a venti minuti di film Ve lo dico L'ho visto L'intervista di Lundini O di Fred L'abbiamo vista in live L'abbiamo vista in live Bella Satori E conosco questo canale Da poco E volevo solo ringraziarti Perché è una ventata D'aria fresca Sia per i temi Gli spunti E la volontà Di divulgare idee Domande non solo Grazie Grazie Nono Che mono Grazie mille Sei molto gentile Ti ringrazio Ragazzi ho già capito Che stasera Per il Watch Party Allora Inizia alle 23 La live Inizia alle 20 e 30 Allora Io aprirò la live normale Dopodiché Imparo come si fa Un Watch Party Potrebbe non essere Un grande piano Però Imparo come si fa Un Watch Party Lo impariamo insieme E a quel punto Si improvvisa Si improvvisa Anche perché Merda Sono strema Cioè il pensiero Di fare stasera Una live È veramente Penso Ma la facciamo E Se non è una figata Ragazzi è una One shot E io ripeto Se non lo fa nessuno Mi viene proprio in mente Che non funzioni come sogno Comunque Vanno bene i vitelloni Va bene il grande Lebovsky Dai buttiamoci Buttiamoci Magari una cosa tipo Vitelloni o il grande Lebovsky Che ho già visto Così anche se Lo droppiamo Non succede niente Cosa ne pensi Del fatto che Epistemologia in inglese Significa la gnoseologia E non riguarda quindi Solo la scienza Ma ci sono tanti significati Di epistemologia Io sono dell'idea Che l'epistemologia Sia la teoria Della conoscenza L'ho sempre intesa così E di solito È così che si intende In versante Diciamo Anglosassone Però sentite Come sempre sulle parole Basta mettersi d'accordo Non è che sia Grazie Filso Grazie mille dell'abbonamento Non è che sia Necessariamente un problema Uno dei grossissimi problemi Della filosofia Però È non solo il fatto Che ci sono Gli stessi termini Che possono significare Cose molto diverse Da filosofo a filosofo Ma il fatto che Per molti È segno Di buona filosofia Creare nuovi termini E quindi c'è Una sovrapproduzione Di terminologia Rispetto al necessario Con il rasoio di Ockham Ormai ci possiamo Arredare la stanzetta E quindi C'è un grandissimo problema Una cosa che i filosofi Fanno per darsi un tono È creare terminologia E ho sentito dire Che filosofi Che non sono Particolarmente creativi Da quel punto di vista Non sono interessanti Per me non è così Però Ok 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 Pleticosa Ma benissimo Benissimo Ragazzi di roba Tra l'altro io ho la mia lista Di film da vedere Ma c'è una marea Di roba Una cosa bella Di Amazon Prime È che c'è una marea di roba Veramente tanta roba buona Blues Brothers Sapete una cosa sui Blues Brothers Oggi sono Si vedete che sono un po' stanchino Oggi vado un pochino così Sapete una cosa sui Blues Brothers Che È rimasto un pochino male I Blues Brothers Erano un film che davano sempre Quando ero cinnino Bambino Lo davano sempre A Capodanno A Natale A Capodanno Mi pare a Capodanno Insomma Fuori nevicava C'erano i Blues Brothers Ma sapete che l'ho rivisto Non tanto tempo fa A parte Ovviamente La questione musicale E l'ho rivisto in inglese Perché volevo James Brown Con la voce di James Brown Ho un po' faticato Ho un po' faticato Ho un po' faticato Musicalmente Beh è un cult Però ho un po' faticato Se devo dire Io credo Cara Carissima parte del mio corpo Così importante Per la mia gioia La mia felicità E per la mia minzione Io credo Che Dobbiate avere Per motivo per cui non lo fa nessuno Dobbiate avere tutto il Prime E non so poi il resto come funzioni Lo scopriamo stasera Vero Vapor Quella scena lì è bellissima No non dico mica Non dico mica Però No vabbè Sono delle scene molto belle Adesso se mi tirate fuori le scene calte Sono molto fighe Sono molto fighe Ho visto che sta uscendo l'ultima parte di A-Hot Ma ho anche visto Che è su Crunchyroll a pagamento Dico una stronzata Se non erro E non lo so Marco Turra E credo di no Perché io non ho mai visto Che rimangono le live del Watch Party E poi per chi rimangono Cioè per uno che è il Prime Come fai Cioè no ti vedi un film Capito E quindi Credo che il Watch Party sia Ci sei o non ci sei Tipo Definisci cagarsi La casa di Jack La prendo come una battuta Lo prendo come un complimento Per citare Joel E a pagamento per una settimana Dopo una settimana La puntata è free Ah beh Quindi indifferita La si può seguire Solo che non puoi stare sul pezzo A fare tutte le gag con tutti online Ho capito È quasi meglio È quasi meglio Esatto Esatto Caro Il mio Le live rimangono Ma senza film Quindi ci sono io Che sono così E poi ogni tanto Metto in pausa Dico delle strazzate Hai mai esposto Una tua opinione Su Kill Bill Probabilmente sì Ricky Maru Non è un film Che mi ha fatto impazzire Non mi ha fatto impazzire Non mi ha fatto impazzire Sono molto videoludico Ci sono delle sequenze Molto da videogioco I cambi di scenario Delle cose Così Non sono un fan Non sono un fan Non mi Ma è veramente così Quindi È veramente così Peso Pesissimo Forse il film Di Tarantino Migliore Ho sempre pensato Che fosse Jackie Brown Forse è Django Uno tra Jackie Brown E Django Ma perché sono film Un po' più Più normali Secondo me Sono molto Terra a terra In questo senso Ho visto da poco Ho visto da poco L'ultimo L'ultimo Cazzo A parte che sapevo già Lo sapevo già Perché sapevo Che era la storia Di Sharon Tate Quindi era ovvio Che era Bastardi senza gloria Applicato a Sharon Tate Era già tutto ovvio Ma poi si capisce subito Quindi Tu sai come andrà E quindi Ti diverti Però io non sono Non sono Non sono Mi dispiace Siamo aperti a tutto Siamo aperti a tutto Siamo aperti a tutto Sì sono d'accordo G.P. Mel Sì 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 Sei molto buono Con Brad Pitt Sei un po' buono Con Brad Pitt Su DiCaprio Sono d'accordo DiCaprio è veramente Grazie Nino Grazie mille del Prime DiCaprio mi sta Davvero Davvero Piacendo sempre Tantissimo DiCaprio è proprio Quell'attore Che io una volta Non ero fan Perché avevo visto solo Il film Un po' del cazzo E invece Wow C'è chi mi diceva Qualcuno mi ha scritto Qualcuno mi ha scritto Su Instagram Non so se sia Qui in chat Qualcuno mi ha scritto Su Instagram Com'è che mi ha scritto Se vuoi far vedere Che lì sotto Ragazzi ve lo devo Scusami Sto per Divulgare un messaggio Privato ma non la tua identità Mi ha scritto No ve lo devo leggere Con simpatieri Guarda Su Prime c'è tutto South Park Se davvero hai le palle Lì sotto Tocca vederselo In barba a Twitch Io guardo Ma a me va benissimo Guardare South Park Ma che cazzo Se davvero hai le palle Lì sotto Ma veramente Ma Dio mio Ma che brutto Ma che brutta immagine Ma perché Che brutta immagine Ma dai Ma Dio mio Che brutto Se hai le palle Lì sotto Ma poi cos'è Dio Perché sono South Park Se guardo Kurosawa Sono uno stronzo Sono senza palle Se guardo Se guardo Che cazzo ne so Bergman Non ho le palle Lì sotto Ma poi che cazzo C'entrano Dio Dio Scusate Ma sta cosa Mi ha fatto senso Vediamo 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 E forse era Pisello E forse era lui Esatto Ah un'altra cosa Aspetta Già che mi arrivano Gli argomenti Da Da Parti del mio cervello Rincoglionite Più delle altre Un'altra cosa Che ci tengo Ovviamente Mi sono sentito Dire che Essendo che sono Un imbonitore Per creduloni Quindi state lontani Da quello Ok State lontani Da quello Che vi ricordate Fossetti Con quei due Sul server State lontani Mi sono sentito Dire che faccio Queste live Credo Senza Sì Credo che fosse Questa L'osservazione Senza un contraddittorio E questa cosa È fantastica Ma scusa Su questo canale Come si chiama Si chiama Weza Twitch A parte che Siamo sempre A parlare Però naturalmente C'è una simmetria Ma ci mancherebbe Tra chi fa la live E chi è in chat Ci mancherebbe Altri Comunque Mi sembra Siano molto dialogiche Ho dei limiti Di comprensione E di capenza E non ci sono due Però mi sembra Che siano abbastanza Però vi voglio dire una cosa Questo canale Si chiama Weza Twitch E quell'altro Si chiama Weza Channel Ma qui parla Parla Scusate Odio dirlo in terza persona Che senso Però qui parlo io Non è che ogni volta Che dico la parola Devo avere un tizio di fianco Che dice il contrario Se non c'è il contraddittorio Il contraddittorio È la meravigliosa vastità Dell'offerta di internet Quello è il contraddittorio Nel senso che ci sono io C'è tizio C'è Caio C'è Sempronio E uno se li può ascoltare tutti Cioè Quella cosa Che quello È pericoloso Quello travia le menti Dei bambini E deve sempre avere qualcuno Di fianco Che lo contraddisce Ogni cosa che dice Perché Se no cosa fai Parli da solo Ma scusa Adesso il mio canale Farò il cazzo Dirò il cazzo che voglio Cioè Capite Io faccio questi monologhi Di tre ore In cui parlo solo io E chiaramente La mia opinione È dominante Nei miei video Ma grazie al cazzo Grazie al cazzo Eh sì Nei miei contenuti Tende ad esserci molto La mia opinione Che cosa ti devo dire Ma io Non l'ho mai Non l'ho mai capita Sta gag Ma non è mica la prima volta Che me lo sento dire Me lo sono sentito dire Di solito da Novax E cose di questo genere Però È una cosa che Tipo fai un video Su un tema controverso Qualunque tema controverso sia E arriva una persona E dice Ma dov'è il contraddittorio? Ma che cazzo vuoi Questo è il mio canale Io non sono tenuto A dare contraddittorio A nessuno Il contraddittorio È appunto La vasta offerta Di opinioni differenti Ma Cosa c'è di meglio Di un'opinione Che viene espressa Senza essere Interrotta ogni tre secondi Senza quelle meccaniche Assolutamente For fanatics only Dei talk Più deteriori Ho capito Danny Solo che non è il caso Di questa Non è certamente Il caso di questa Questo non è Lisciarvi il pelo Perché si è visto Non è certo Il caso di questa Quindi ci sono cose Che non devi ripeterle Troppo spesso Se le dici Devi avere un contraddittorio Devi avere un tutore E in generale Devi stare zitto C'è troppo C'è troppo La mia opinione In queste live C'è troppo La mia opinione C'è troppo Sente troppo La mia voce È una cosa Una cosa Inaccettabile Inaccettabile Un'altra cosa Mi stanno venendo in mente Un po' di cose Un'altra cosa Ci sono molte persone Anche tra di voi Anche tra di voi Anche tra di voi Ci sono molte persone Che guardano Le cose Ma non Le capisco C'è un motivo Guardano le cose Di internet Come Sai no Il dissing Cosa pensa quello di quello Ma quelli hanno fatto la pace Quelli hanno litigato Guardano le persone Come si guarderebbe amici Di Maria De Filippi Guardano Gli influencer Queste cose qui Come si guarderebbe amici Di Maria De Filippi Questo è favorito Da come funziona internet Ovviamente Che crea personaggi Ovviamente sì È favorito dal fatto Che moltissime trasmissioni Su internet Sono amici di Maria De Filippi Sottometite spoglie E quindi Sono io che cedevo sta Non c'è dubbio su questo E metto un personaggio Mi piaccia o meno Ma Questo ne abbiamo già discusso Tantissime volte Tuttavia Se posso Cerco Illusoriamente Senza poterci davvero riuscire Assolutamente d'accordo Cerco di andare contro Questo genere di aspettativa Che cosa vuoi Ci si riesce o non ci si riesce Magari è una pia illusione Però Vedo proprio Che c'è tanto L'interesse Per Quello che avevo chiamato Il personaggismo È una cosa Che è Come posso dire È abbastanza Avvilente Però è stupido E sarebbe stupido Da parte mia Pensare che sia aggirabile Perché non lo è Quindi non voglio essere Troppo accusativo In questo senso Però Non ti viene voglia Nei miei panni Parlo soltanto per me Non ti viene voglia Di dare Spago A questo genere di cose Cioè Tutte le volte Che ti accorgi Ti viene un po' Di dispiacere Al tempo stesso Analizzi il contenuto Di qualcuno Sei di nuovo tu Che lo Che lo Aizzi In qualche modo Per carità Però è una cosa Veramente Veramente Forte Grazie a Belardo Grazie mille A proposito Prima si parlava Un pochino di Italianità Essere troppo italiana Questa è una cosa Veramente che abbiamo Tantissimo Abbiamo da morire Questa cosa È impossibile Cioè uno In teoria lo potrebbe fare Bisogna badare Solo al contenuto Ma che bisogna Badare solo al contenuto Sei una faccia Sei una voce Sei una impostazione Sei una tipologia Di carisma Carisma può anche Essere inteso Negativamente Sono persone A cui stai Mortalmente sul cazzo E se non l'ho capito Direi che Se non l'avevo capito L'ho capito Ok Quindi non è che Non puoi essere puro Da questo punto di vista Però è Invito Chi mi segue A fare caso Se vuole Anche su se stesso A questa cosa qui Proprio pensando A quelle trasmissioni Televisive Che non vorresti mai Esserne Un telespettatore E dice Vabbè Io quella roba Non la guarderei mai Chiedetevi Non sto in fondo Guardando Il content creator Su internet Come guarderei Anche se le modalità Di fruizione Sono diverse Differite Come guarderei O come le altre Le persone che magari Ho sbertucciato Credendole delle cretine Guardavano O guardano Una trasmissione Come amici Di Maria De Filippi Non chiedo In fondo Ai creator Di rispondere Ad aspettative Di quel genere Di rispondere A dinamiche Di quel genere Magari no Non so di sono Che lo facciate Necessariamente Però fatevela Questa domanda Cioè Può essere Interessante Provare Un pochino A chiederselo Perché Dal personaggismo Non si scappa Nel senso che E certo Certo Sì 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 Ma generico È quello che sto dicendo Dal personaggismo Non si scappa Nel senso che Anch'io adesso Che personaggio sono adesso Sono quello che Si è isolato Che cazzo non so Non so come funzionano Esattamente Quello che sta Per i cazzi suoi È incazzato Però forse ha ragione Cioè immagino Come posso essere visto E sono tutte Quelle dinamiche lì Che ti fanno Un po' cascare le braccia Però Cazzi miei Nel senso Chi se ne frega Il gusto del drama È il nuovo gusto Del macabro E la reputazione Sta al posto del sangue Questa è bella Saisar Te la sei inventata Così al volo Ce l'avevi pronta La stai carina E stai carina Anche interessante Molto interessante Molto interessante Più che altro Io sto qui Non saprò mai Se Waze è realmente così o no È molto giusto Giuse È giustissimo È giustissimo Io per quanto Vedete Cerco di essere Una persona molto spontanea Eccetera Naturalmente Io sono consapevole Di essere in diretta Sul mio canale Quindi Non potrà mai Corrispondere a conoscermi È logico Non mi ricordo Worm Del mio problema Filosofico con GTA Mi piacerebbe Risponderti molto Non mi ricordo Assolutamente A me non piace GTA Però Sinceramente Il problema filosofico Chissà cosa stavo pensando Non me lo ricordo E tutto fa parte del piano Ovviamente È il plan Per chi segue la formula 1 Vedi The Ape Demon Aspetta Aspettami Leozza Scusa Mi è interessato Ma no Ma chi è che ha fatto Sta roba No Questa la dobbiamo mettere a schermo A proposito Questa la dobbiamo mettere a schermo Ma cosa mi hai tirato fuori No ma è fantastico Quindi questo Questo è Zano Scusate Dobbiamo vedere sta cosa qui Un secondo Questo è Zano Cioè Di fama Ma non so assolutamente Questo è Power Questo è Dario Moccia Qui ho visto subito Sabaku Il gatto Wesa Twitch Ci sono anch'io E sono collegato A Sabaku E Dario Moccia Questa cosa è sbagliata Questa cosa è sbagliata Non so sulla base Di quali dati Li abbiano fatti Ma ora vi spiego Perché è sbagliata Ci clicco Ci clicco Aspettate Connessioni con Ok 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 Sì 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 Ho capito Vi spiego perché è sbagliata Oddio Magari sbaglio io Però Secondo me è sbagliata Perché È sbagliata Perché I canali Con cui Io ho Più persone In comune Sono sicuramente Rick Dufer Ora ve lo dico Credo sicuramente Rick Dufer Aspettate Non so se però Il criterio sia lo stesso Quindi potrebbe essere Adesso Entropy Esattamente Adesso sicuramente Le mie analytics Ancora non me lo dicono Ma sicuramente Ora al primo posto C'è Entropy for Life E Boldrin Assolutamente sì Assolutamente sì Questi qua sono quelli Che mi dice sempre Che ho le cose in comune Ma ci voglio andare a vedere Scusate Tanto siamo un po' cazzati O arriva ECO Tranquil che ECO Non manca mai da sto canale Analitica canale Facciamo proprio l'ultimo mese Che in realtà Con l'arrivo di Entropy È molto cambiato Lo scenario Guardate Quali canali condividono I miei stessi spettatori Entropy for Life 30% Daily Cogito 19% Ivan Grieco Che non so mezza 12% Pregianza 12% Michele Boldrin 11% Questi sono i canali Con cui nell'ultimo mese Condivido E che secondo me È indicativo Proprio per l'arrivo di Giacomo Condivido di più Gli spettatori Volete sapere Quali categorie Magari non li hanno inclusi O magari il criterio è diverso È di dicembre Eh però Non ci sarebbe stato Entropy Ma non sarebbe stato così Assolutamente Però chi lo sa È triggerato Vediamo se in realtà È vero oppure no Perché io posso dirgli Dicembre 2021 Facciamo dicembre 2021 Per fare una verifica Nel caso Dicembre 2021 Ah no Mi dà gli stessi dati Mi dà gli stessi dati Quindi Sti cazzi Forse non li Forse li considera Un po' Li considera semplicemente Al punto presente Probabilmente E E quindi E quindi è questo E quindi non capisco Esattamente Ma forse questi canali Non ci sono Ma sì che ci sono Ma ci sono sicuramente Cioè se ci sono io Ci sono anche canali Per notare Cabernet Platone Sommobuta Non sono molto connesso E così E qui che c'è Ma chi Guarda Non conosco nessuno Di questi Ma questo è Cosa sono collegati A Dario Moccia Un po' E al Maseo Zano è Ma chi è questo Che non sa Giozzi E questo Questo è grosso Deppets Gaming Aspettate Cerchiamo dei nodi Che possono Scusate E questo chi è Paolo Idolo Ah qui spiega Sorry sorry Omino Il click è impossibile È stato impossibile Devo fermare la chat Eccoci Arrivo Arrivo Se non vi ho letto State tranquilli Oddio Non capisco Se mi sia fermata La chat Ok 22 Cos'è Perché mi state Scrivendo 22 Twitch Community Analysis Dati raccolti 1344 Campionamenti L'analisi Del community Twitch È uno studio Che analizza Il comportamento Degli utenti Della piattaforma Il grafo La presentazione Grafica Dei dati raccolti Le palline Sono gli streamer La cui dimensione Proporzionale Al numero Di spettatori Unici Individuali Le linee Che collegano Le palline Gli archi Rappresentano Gli spettatori In comune Tra i due streamer Allora Veramente Forse Non ci sono Forse Non ci sono Gli altri Gli altri Quelli Più è grosso L'arco Più sono Gli spettatori In comune La disposizione Di nodi Non è casuale Ma è risultato In un algoritmo Chiamato Force Atlas Il Force Atlas È una stregoneria Che porta i nodi A respingersi Fra di loro Dal centro Verso l'esterno Fortunatamente Gli archi Fanno il lavoro Opposto Trattenendo insieme I nodi E quali sono collegati Di conseguenza Più un arco Fra due nodi È forte Ovvero più spettatori In comune Ci sono fra due streamer Più i due nodi Rimarranno vicini Il colore dei nodi Rappresenta la community Di cui fanno parte La magia di questa analisi È che i colori Non vengono impostati Manualmente Sugli streamer Ma sono il risultato Di un algoritmo Di calcolo Di modularità Per spiegarlo Semplicemente Un gruppo di streamer Che condivida Molti spettatori Viene contrassegnato Con lo stesso colore Dall'algoritmo In maniera automatica È affascinante Vedere l'affronto Con la realtà Non è un caso Ad esempio Che l'algoritmo Sia riuscito A contrassegnare Tutti gli streamer Di League of Legends Nella stessa community Chi ha raccolto i dati? I dati sono raccolti Da un server Ogni 30 minuti Per ogni campionamento Vengono interrogate Le api di Twitch Per ricevere I top 100 streamer In diretta In quel momento Successivamente Viene scaricata La lista Dei utenti in chat La privacy Sono dati pubblici Ovviamente Sì Vabbè Queste sono cose tecniche I bot Questo mi interessa E i bot Non influiscono Sui risultati La maggior parte Dei bot Sono stati filtrati Ed esclusi dai risultati Per contrassegnare Uno spettatore come i bot Viene considerato Il numero di live Guardate contemporaneamente Se sono troppe Lo spettatore Viene blacklistato Se avete regolarmente Decine di tab Di Twitch Aperte contemporaneamente Ad esempio Se utilizzate Chatterino E voi utilizzate Chatterino Eh Chatterini Vi ricordate I cacciotti Potrei chiamarvi Chatterini È probabile Che siate Stati contrassegnati Come bot Solamente Lo 0,28% Degli utenti Individuati È stato Segnalato Come bot Sì Sì Gaboro Cecco Non so comunque Che cazzo sia Però sì Non erano le app Rimango assolutamente Ignorante Della materia Application Programming Interface Praticamente Sono servizi Funzioni Che puoi interrogare Da remoto No blood letter No Io ho 12 tab Solo della tua live Tutte col volume A palla Ti ho traviato Mister Mosquito Sei finito in trappola Sei parte Del mio disegno Comunque sia In realtà È molto bella Questa spiegazione Per carità È molto figa Però in realtà A me Twitch Dice cose diverse E non ho ragione Di pensare che mi menta O non ci sono Gli altri nodi Dove cacchio sono io No ero qua O non ci sono Gli altri nodi Ma come fanno A non esserci Oppure lui Mette una cosa Di questo genere Lui considera Tra tutte le persone A cui sono No però ha detto Potrebbe fare così Potrebbe considerare Tra tutte le persone A cui sono linkato Chi sono i due più grossi E quindi dice Sabacco e Dario Moccia Magari sono più linkato Ad altri più piccoli Ehi 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 Bravi 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 Mi siete bravi Non succede niente E forse non c'era ancora Entropy Entropy non me lo becca Vabbè facciamo Daily Raga non me lo becca Chi era l'altro Ah tutto attaccato Scusate Scusate Eccolo Ivan Greco Cerbero Podcast Lui è da questa parte qui Ok Ora lo saprei individuare Aspettate Aspettate Togliamo Togli 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 Quindi Rick È qui Però io in realtà Dovrei essere molto connesso a Rick Ma sono più ludico Cazzoide Però in realtà adesso che faremo più talk Però comunque abbiamo lo stesso colore Abbiamo lo stesso colore Ma non è se è piccolo Cerbero Podcast Me lo sarei immaginato in ora Quindi abbiamo lo stesso colore Ma secondo me alla lunga finirò qui Cioè se devo dire la verità Alla lunga credo che mi posizionerà qui Alla lunga credo che mi posizionerà qui Vediamo un po' Martin Sall Sì 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 Vediamo Michele Boldrin C'è di peggio Fabio Zetta Livio Marcone Max Max Proietti Riesce veramente a fare quello che voglio fare io Bisogna Se è alla lunga Finirò qui dai Omiatol Michel Puttini Non so chi sia Hank Panetti So solo che non hai capelli Anna Mann Chi è questo? Danny Lazzarin Ho visto più video di Danny Lazzarin Di quelli che vorrei ammettere Player Inside Bella Every Eye Quindi qua Sì io penso no Un po' Un po' così Un po' E qua che cos'è? Jack Torrance Del Non conosco Ma dall'altra parte come si fa uno Come fa uno a conoscere poi tutto Guardate questi quattro storo per i cazzi loro No Vabbè questi sono i numeri uno Guardate Questo è un gruppo totalmente per i cazzi suoi Dite che potevo farlo prima Posso muovere? È fatta molto meglio di quanto pensassi Il gatto sul tubo Mio maestro assoluto di vita Che però non seguo i suoi insegnamenti Ma lui Io lo ripeto Il gatto ha capito tutto Tutto Ogni singola cosa Le cose che c'erano Non so se ha capito tutto Ma le cose che c'erano da capire Il gatto sul tubo Le ha capite Questo Segnatevelo Non crediate che io stia scherzando Non sono minimamente ironico Non sono minimamente ironico Qua c'è parliamo di videogiochi Che però è linkato un po' per i cazzi suoi Parliamo di videogiochi È molto per i cazzi suoi È paradossalmente linkato a Power Beh però poi vai Verso Sabacco Quel gatto sul tubo Però io qui riconosco un po' Alcuni nomi Effettivamente altrove no Tipo se io vado qui E zoom Io non ho mai sentito nominare Nessuna di queste persone È interessante È bella sta cosa ragazzi Ma avete linkato una cosa Veramente veramente interessante È bellissima questa spiegazione Molto Bello Guardate X velocity Quanto Ma non c'è uno che sta totalmente per i cazzi suoi Questi comunque hanno dei collegamenti Adesso vediamo meglio Beh comunque anche io non scherzo a stare per i cazzi miei Probabilmente anche le isole in realtà hanno un collegamento Adesso andiamo a vedere quella che c'era sembrata veramente Il vostro caro Dexter Ragazzi qui Questo è un mondo a parte Questo è un mondo a parte ragazzi Samuele È una gag o sei serio? Quelli rosa fanno Fortnite Ma pensa E questi qui cosa fanno? Mi dicevate Magic? Non è arrivato neanche il Covid Ok Samuele Cod Ok grazie Genshin quelli grigi Che cosa fì? Perché vedete Se uno avesse un piano Invece di essere un critico Se uno avesse un piano Lei è uno strumento della madre Veramente è bello Se uno avesse un piano Studierebbe il proprio posizionamento E a chi gli conviene Ad esempio Se tu sei arancione Io sono arancione Quindi non sono rosa Come Sabaku Saidonia Avriai Non sono rosa Sono arancione Quindi siamo degli arancioni Masella Siamo nerd Victor Siamo nerd Ma in realtà Arancioni Come Dario Moccia Che in realtà è arancione Come Cerbero Dei Licogit Quindi in realtà Io sono Trasversale Capito? Sono il lato Sfigato Nerd Di quelli più impegnati Questi sono quelli più impegnati Chi più chi meno Ovviamente Oddio Non credo sia tanto impegnato Vabbè insomma E qui ci sono quelli Un po' più del cazzo E io sono qua Vabbè insomma Però vedete Vedete che in realtà Non solo sono lo sfigato Tra gli intellettuali Ma ho un nodo Ho un nodo Color Dario Moccia E Voglio morire ragazzi Ho un nodo Color Dario Moccia E un nodo Color Sabaku Attenzione Ma sono Yotobi Luttazzato E non c'è Daniele Luttazzi Però c'è Yotobi Che è qui In realtà vedete che Yotobi Per essere Yotobi Che è comunque Uno strastorico È molto per i cazzi suoi Ma anche Chichibe E Kafkania Che sono canali Questi Sono canali storici Di Twitch Lo stesso gatto sul tubo Gli stessi termosifoni Questo non lo conosco Questo non lo conosco E altri qua non li conosco Però sono molto Per i cazzi loro Avete notato? Non capisco perché siano rosa Cioè rosa Non può essere Dark Souls Rosa boh È videogiochi Per adulti Però Un po' più Un po' più così Insomma No non lo conosco E Vari tipo Variety Bravissimi Ed è anche una tipologia di streaming E infatti Allora sapete Ah Però non capisco Dario Moccia Cioè in tutto questo Ah No Ho capito Ho capito L'arancione È il just chatting E il rosa È Variety È Variety Gaming Bravissimi Bravissimi È il just Quindi Dario Moccia È il just chatting Io sono just chatting Ma facendo Avendo fatto Ve l'ho detto Sto per cambiare totalmente Posizionamento Ma avendo sempre fatto Un mix Ma vedete che è più forte Ho sempre fatto Un mix di Variety Gaming E just chatting E infatti sono qui Ma il collegamento più forte Era già il just chatting Per questioni di numeri Sparendo Salvo quando uscirà il del ring Così Ma andando sparendo Il rosa Secondo me Mi sposterò Dal nerdoso In realtà E i miei collegamenti Più forti Con Daily Cogito Sicuramente anche Martini Perché in realtà Ho sempre visto Che ho degli utenti In comune con lui Anche se adesso Me li dava Eccetera Alla fine Cioè in realtà Io dovrei stare qua O forse un po' Forse Max Proietti È un po' Che non so chi sia Fabio Z Mi piace Lì Mercone è presente C'è di peggio Non conosco Però dai Qui più o meno Dovrei stare Bella Scelios Grazie Grazie mille O Bologna In comune con Martina Assolutamente sì Eh sì Manza o Anza Lo spiega davvero Lo spiega davvero Sono un pendolo Che uscilla tra il rosa E l'arancione Esatto Però in realtà Se ci pensate In questo senso Anche Dario Moccia È un pendolo Che uscilla tra il rosa Perché l'arancione In realtà Non significa impegnato L'arancione Significa semplicemente I talk Che però vengono Si usa la categoria Just chatting Molto di più Che talk Anche per una questione Di visibilità E quindi Lui mi nerdizza Perché Vedete anche qui C'è un collegamento Di un po' di gaming Qui no Ma questi due Chiaramente sono collegati E vabbè Siamo qui Con Caverna di Platone Che so che mi vuole Molto bene E quindi Siamo qua Che poi mi avete detto Che in realtà Non mi ha assolutamente Detto niente di male Insomma E E quindi Niente Beh figo 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 Vediamo Aster Dite un po' Si un po' Aspettami Che ti clicco Twitch community overlap Vabbè ma questi Sono canali internazionali Ma chi li conosce Si può italianizzare Sta cosa Ma non so Chi siano queste persone Però Ah pelati Ok Questo non lo saprei utilizzare Non lo so leggere Vabbè Qua c'è il Cerbero Però lo riconosco Ma a livello mondiale Il Cerbero È uno di quelli Che ha più chatters Minchia Come stava così piccino Nell'altro I colori Sì sì Ma l'abbiamo letto prima E qui la spiegazione L'abbiamo appena letta Però lui Li desume Lui li desume E questo si chiama Staz Rocky E questo si chiama Jambaj Punto it Jambaj col J Jamba J Scritto Jamba Jambaj Qualcuno lo scriva Per piacere E qui niente Il piano Ecco Bella Grazie mille Il piano Il vero piano Il grande piano Il grande piano è O Allora Il piano sarebbe riuscire A staccarsi dal continente Ma O Si va Si sbarca Su questo continente Che però Che però Non so chi sia Ma questi qua ragazzi Questa è la cosa più interessante Io questi cinque Questi cinque streamer Sono Non so chi sia Sicuramente fanno videogiochi Perché uno è Franco Gamer Vabbè non è detto Uno si chiama Franco Gamer YouTube Joule Quindi ha un canale YouTube Ah è questo Genshin Così piccoli Quindi l'isola felice È Genshin Impact Cazzo Cazzo raga Non lo so Però in realtà Sabaku sta per andare A colonizzare Ma Sabaku Poi lo platina Genshin Non ho capito Non è molto Non lo so Li stavo per considerare I cinque saggi Ora non sono più Così sicuro Che lo siano Canobisboc non ci sono Da quanto sono isolati Ma in realtà Canobisboc non dovrebbe essere isolato Fa retro gaming Vabbè non lo fanno in tanti In effetti Ma perché sono isolati O perché sono considerati piccoli Perché potrebbe essere anche quello Non so quale sia il limite qua No allora bisogna Questa è un'isola quasi isolata Allora c'è un collegamento Questo gruppo qui Dovrebbe prendere Jack Torrance Dovrebbe prendere Jack Torrance Da parte degli Jack Qui tu ci stai fottendo Tutto il piano Questo è Magic Dragon Ball Ragazzi Ma cosa stiamo scoprendo Ma cosa stiamo scoprendo È incredibile È incredibile Adrian è isolato Veramente? Come si chiama il canale di Adrian? Non è Adrian Fartade O è Link for Universe Non lo so Credo sia Adrian Fartade È Adrian Fartade Giusto? Ok 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 Grazie Comunque ok L'abbiamo trovato È lì Oliver the Cowboy Faccio così Contestualizza Me lo dai PD Non devo doverlo togliere Vabbè Aspettate Faccio così E lo levo Vabbè È molto per i cazzi suoi Adrian Fartade E tra l'altro è qui Ah Cioè Siamo Però lui ha un link solo Ha un link solo Bella Adrian Ha un link solo Come anche Victor Laslo In realtà Questo grafico Non ha nulla a che vedere Con i giochi E i dati di dicembre Sono molto falsati Dalla maratona di Dario Che è un po' sconvolto Gli equilibri della tua isola Ho capito Ho capito Però non ha nulla a che vedere Che giochi Però in realtà Sì Perché di fatto Questi giocano a Genshin Questi giocano a Magic Questi giocano a Genshin Quelli giocano a COD Madonna Se non ha niente a che vedere Con i giochi Insomma Ce l'ha abbastanza Federscacchi Vabbè Non so Io non potrei far parte Della Federscacchi Visto che non gioco Dalle scuole elementari E non è un modo di dire Ho dissato Ho dissato Ma siete proprio sicuri Ah i dati No no Sì sì Ma lo spiegava nella spiegazione Lo diceva nella spiegazione Sono cose che emergono Dopo E dimostrando La grande accuratezza Dell'algoritmo Ma non so neanche Se dovrei dire algoritmo Però insomma Sì sì Non si basa su quello Assolutamente Assolutamente sì Si basa sulle Sulle abitudini Degli utenti Che è una cosa interessante Molto No non sono mai stato Nella maratona Cioè no Forse in passato Un paio di volte Sono stato ospite di Dario C'era anche altra gente Ma tantissimo tempo fa Non No il piano Non c'è Non c'è piano In realtà Power Tu blur Tu blur Che è blur Christian Vieri Zano Lion Pensavo che Lion Fosse il più grosso Va bene Guys È tempo Ce l'abbiamo già qui Ce l'abbiamo già qui Esatto Esatto Galimberti Che smerda la categoria Dei giovani Con molti Ah ma Ne abbiamo già parlato Tantissimo tempo fa Non abbiamo visto il video Però Non è un mio opinion leader Galimberti Non lo prendo molto In considerazione Chiedo scusa per questo Insomma reagire Roger Ti ringrazio Però Reagire Dissare Magari Me lo merito Per carità E leggiamo ragazzi La fenomenologia Che cosa dite Reagiamo Facciamo così Reagiamo No È il Google Ma ne ho sentito parlare Me lo linki Me lo linki Che mi interessa Sai che questo Penso che c'è Umberto Eco di mezzo Me lo linki Che mi interessa Non abbiamo deciso nulla Cristiano Me lo linki Che mi interessa Questo video di Piero Dorfless Ma se no lo cerco Perché dovete farlo voi Ci metto un secondo Piero Ma su YouTube Piero Dorfless Fumetti Vedo che già me lo suggerisce Ah ma è lui È veramente lui Mi dà un video Di sette minuti Grazie Google Hai sentito Questo lo voglio vedere Mi stava così simpatico Quando guardavo Per un pugno di libri Lo adoravo lui Non sono riuscito A trovarlo Quel numero di Linus Comunque Se hai bestemmiato Mi consoli Così Meglio che non l'ho preso Fatemi un attimo Pensà Allora Sono arrivati I super Fatemi pensà Sconti EasyJet Fino al 25 Lo state vedendo Lo state vedendo Buonasera Sono sette minuti Ti voglio ancora bene Nonostante Questo ingresso Questa entrata Buonasera Questa cosa Non mi farà monetizzare Il video su Cantina Uesa Che palle Andiamo avanti Mi sa come funziona Questo spazio Potrei aprire Una parentesi Su ognuna di queste persone Che vedo a schermo Ci sono delle lettere Che ci arrivano Ma io no Ma io no Ma io no Ma io Sì non si vedono La qualità video Fa schifo Non è la live Non è niente Fa proprio Che al massimo Abbiamo 480p Quindi Beccatevi a 480p Ma è Lundini 5.50 ai minuti Mi fido Dai Da qui non lo riconosco È Lundini 5.50 Grazie 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 Andiamo a 5.40 Per la prima Per avere Per avere l'introduzione La lettera Che è legata A quella polemica Social Di cui parlavamo Prima Ma ragazzi Quanto faccio fatica Con Loduguenzi Ma non potevamo Non chiedere il parere A lei Che è l'autore Di un libro Che si intitola Il lavoro del lettore Ecco la lettera Caro Piero Chi in un anno Legge 10 fumetti E 5 manuali Di cucina Può sostenere Di aver letto 15 libri Cioè i libri Si contano O si pesano No i libri Si possono anche contare Però bisogna stare Un po' attenti Ci sono età In cui le letture Valgono in modo diverso Io sono convinto Che il famoso Topone Stilton Sia un'ottima lettura Per chi è giovane E per certi versi Sono totalmente d'accordo Con quello che sta dicendo Se cedessimo Lo stesso valore A chi ha 50 anni Legge Stilton Forse sbaglieremmo Misura Dall'altra parte C'è l'idea Che tutto sommato Se uno legge tanti fumetti Ha comunque letto qualcosa La risposta è Purtroppo no Perché sono due modi diversi Di confrontarsi con la lettura Leggere un romanzo È un lavoro più complesso Bisogna imparare A maneggiare qualcosa Di molto più lungo Molto più impegnativo Non è come il fumetto E quindi in realtà Sulla lunghezza Possiamo anche discutere Ma che cazzo c'entra la lunghezza Un romanzo può anche essere molto breve Come cazzo fai a generalizzare così sui fumetti Come fai a generalizzare così sui fumetti Pisello non sentirti sempre chiamato in causa Come fai E caso per caso Dipende Dobbiamo fare Comunque che stai motico Di caso per caso E anche dipende Come fai E i Logi Comics L'ho comprato L'ho anche iniziato Secondo me Non si possono pesare I fumetti Come se fossero romanzi Non è la stessa cosa Se proprio Devo dire una cosa Se vogliamo Lasciare che i giovani Secondo me no Enrico Abbiano la loro strada Personale Per arrivare In modo Esatto Tutti i saggi del mondo Sono diventati E' bello che nei libri Sono o romanzi O se no sono i fumetti Non ho capito Felice Alla lettura Watchman non la legge Bisogna lasciarli leggere Quello che vogliono Non imporli le letture Adatte alla loro età Con le cose Che dovrebbero essere precise Per quel periodo Della loro vita Io ricordo benissimo Che quando ero ragazzo Andavo Era vera questa cosa Stavo a frugare Nella biblioteca Dei miei genitori Cercando i libri Più pruriginosi Naturalmente Direte Ma non è educativo Sì come vedete Sono stato educato Molto male Sono venuto molto storto Però la realtà E' che leggere I 49 racconti Di Hemingway Quando cominciavo Ad affacciarmi Ai problemi Della sessualità E' stato molto istruttivo Molto meglio Che leggere Un brutto fumetto Pornografico Sì ma Non è che tutti i fumetti Sono brutti Fumetti pornografici Grazie strappattone Gentilissimissimo Che idea ha Dei fumetti Nel senso Ha un'idea Stereotipica Dei fumetti Che me la sarei aspettata Negli anni Negli anni 40 Cioè è veramente assurdo Veramente assurdo Boh Ma che cazzo Ah ho capito Pelatio Beh immagino Anche perché è un'occasione D'oro Per avere ragionissimo E fare un video Cioè proprio Oro Un assist Clamore Clamoroso Eh sì era quella Leozza Meglio di Veltroni Sui manga Sì probabilmente sì Probabilmente Ma donna quante ne sparava Veltroni sui manga E vabbè Che cosa dire ragazzi Mi dispiace solo Che una persona Così colta Abbia un'idea Così del futuro Cioè Sono voglia di alzarmi in piedi Per prendere I soliti Da Watchmen A Taniguchi A Mebius I soliti Cioè nel senso Come fai Mouse Come fai a dire una cosa del genere Ma poi tantissimi Veramente Da Shintaro Kago Ricordate sempre Shintaro Kago Come fai ad avere questa idea Dei fumetti In un paese Dove Se non altro Il nostro Umberto Eco Si è fatto in quattro Per sdoganarli Come fai? Come fai a fare una cosa Cioè È veramente strano Chi se ne frega Pazienza Leggiamo Leggiamo Facciamo le nostre letture Importanti Forse Io credo sicuramente Per la seconda volta Ma Vi avevo ringraziato Per il 650 Che avevamo toccato Ed è allucinante Che siamo già di nuovo A 633 Vi avevo ringraziato molto Se torniamo A 600 Vogliamo fare 650 Facciamo 700 Sono indeciso Se raggiungiamo Mi piacciono i 666 Se raggiungiamo i 666 Elogio di Franti Che tra l'altro ci sta 666 Elogio di Franti Sbattezzo È un po' uno sbattezzo 666 Dai ci sto Ci sto Martina Esattamente Esattamente E qui da 666 Leggiamo l'elogio di Franti Ma sì Ma è pisello Sarai pisello Però Ragioni Ragioni Qua i vasi comunicano Sempre detto Sempre pensato Mille sub Mi sbattezzo Sarebbe da fare Se non fosse che sicuramente Bisognerebbe mettere Delle documentazioni private A schermo Però sarebbe da fare Sarebbe da fare Sarebbe in realtà da fare Dovremmo fare No Non ho Patreon In questo momento Dovremmo fare Una live Dedicata allo sbattezzo E a vedere Quanto è effettivamente Assomiglia Quanto è effettivamente Uno sbattimento Fare lo sbattezzo Perché poi io lo sopravvalto Sicuramente è una cagata E scoprire Se sbattezzarsi Non è uno sbattimento Ci sbattezziamo È inutile Sono d'accordo Anch'io È una gag Però lo facciamo Sbattezzo di massa Così anche in paradiso Sentiranno l'eco Ah certo Lillo Sì 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 È vero Mi sono sbattezzato Se non ero sul documento Non si è scritta Nessuna informazione Beh comunque ci guardo Premetto la scherma Eventualmente E se poi te ne penti E com'è ragazzi Com'è L'abbiamo letto John Chong L'abbiamo letto O forse l'ho letto Solo da solo Però è figo Ma faremo una live Dedicata a Monkey Island Comunque sia Com'è ragazzi Com'è ragazzi Se arriva A mo Di Così Experimentum Crucis Vado all'inferno Cioè Io mi sono sbatte Quel giorno In live Su Twitch Così per fare il brillante Per fare il simpatico Mi ero sbattezzato Giocavo col fuoco E non lo sapevo Muoio Questo è fuori di dubbio Lo dico per tutti quelli Che mi augurano di crepare Sappiate che sicuramente Il vostro augurio Andrà a bersaglio E quando schiatto Vado all'inferno Vado all'inferno Vado all'inferno C'è qualcuno Alla porta Dovrebbe essere Di cosa stiamo parlando C'è un diavolo Alla porta dell'inferno Stile Darbula Di Dragon Ball E io mi avvicino Ma scusa Vez Ma io Nel senso Vabbè In realtà Come potrei stupirmi Però vabbè Diciamo che gli chiedo Però non sono stato Una persona cattiva Cioè Voglio dire Alla fine Che cazzo ho fatto di male No? Cioè Eh vecchio Ma ti sei sbattezzato Cioè Errore gravissimo Adesso stavi Stavi in paradiso A giocare A Zelda A Link to the Past Per tutta la vita Cioè Capito E ovviamente l'inferno Però è come quello Del film di Woody Allen Non mi ricordo mai Harry a pezzi Che c'è Che lui va all'inferno Che è tipo una roba Che ci vorrei andare Adesso E vado nel girone Dei capitalisti poveri Che è In realtà In realtà Il Dissing Dissing E reagire Io dovrò dissare E reagire Per sempre Per sempre Una reazione Cos'ha Il girone Dei capitalisti poveri Che è proprio Il girone Degli sfigati E' peggio Di essere Quell'ultimo puntino Su Twitch Sei proprio L'ultimo I capitalisti Poveri I capitalisti Poveri E' bellissimo Perché tu sei lì Che fai Viva il denaro E non hai nulla Viva il mercato E non hai un cazzo Oddio E' bellissimo E' bellissimo Potevi almeno Essere un comunista Povero Che ci stava E' peggio I comunisti ricchi No Con cazzo Sono molto più sfigati I capitalisti poveri Dei comunisti ricchi Se permettete Anche se Gli ipocriti Sono i comunisti ricchi Perché in realtà Il capitalista povero Dimostra che La sua Non è una morale Quindi Stiamo dicendo male Però diciamo Che la sua Filosofia Non è una filosofia Vabbè La sua posizione Le sue idee Diciamola così Non sono Frutto Della sua condizione economica Ma sono Vibili Allo suo cuore E quindi C'è un nuovo video Di Vendrai Ma E' un video E' un video gag O è un video Cioè si fa l'onda energetico O è semplicemente Un video sull'alimentazione Allora non ci interessa Ci pensiamo un'altra volta Tiz Ma lo facciamo Grazie Peppozzo Grazie del Prime Dio che preferisce Gli atei ai credenti Vediamo Il mio saluto E' solo una storiella Perché Perché ho trascorso Notti indimenticabili Grande privilegio Con Umberto Eco E ci scambiavamo Furiosamente Storielle E barzellette Ovviamente Lui ne sapeva Molte più di me Anche della storiella Ebraica Ne conosceva Molte più di me Una volta lo scambio Era Guardate che allucinante Questa cosa che ha appena detto Cioè Non so C'è Moniovade Che dice Ecco E' stato veramente Così Faticoso E prolungato Che mi guardò Con aria un po' smarrita E mi disse Adesso tu sai le mie Io so le tue Come facciamo Gli dissi Non ti preoccupare La pietà dell'Alzheimer O dell'arteriosclerosi Ce le farà dimenticare E ce le riracconteremo Per molte altre volte E così è stato Ora Questa Me l'ha raccontata lui E io Gliela dedico Come saluto Come la so raccontare Che carina Che carina sta cosa Che carina sta cosa Che carina sta cosa In una Cittaduzza Ebraica Del vasto Impero Zarista C'è una Comunità di ebrei Ultraortodossi Di grande vaglia Il loro rabbino È Un esimio cabalista Un giorno Questo rabbino Si vede arrivare a casa Uno dei suoi congreganti Trafelato Pallido Involto Con la fronte imperlata Di sudore gelato Che gli dice Rabbino Scoltami Rabbino è preoccupato Dice Yank Siediti Cosa hai visto Satana No peggio Mamma mia Allora racconta Rabbino Io stavo facendo Il mia colazione Con un feto Di pane nero Burro Abbondante Stavo imburando Il pane E tè Zuccherato Bolente Rabbino dice Ma sei scemo Yank Sei venuto qui Per raccontarmi Il tuo colazione Aspetta Rabbino Lasciami finire Allora Io stavo Pregustando La bontà Quando all'improvviso Il mio gatto È saltato Sul tavolo Pensate Pensate Che bel gruppo Di persone Per bene Caruncola Grazie mille Pensate Che bel gruppo Di persone Per bene Possono essere Quelli che sono andati Al funeral di Umberto Eco Pensate Che bel Che bel gruppo Di persone Che è quello Ci saranno eccezioni Non voglio mica dire Se dovessi scommettere Che quella Quella è una bella Isola felice E mi ha fatto cadere La fetta di pane Dimmi Rabbino Da che parte È caduta Il fetta di pane Imburato Non fare il cretino Yankhele È fisica Dal lato del burro No Rabbino È caduta Dal lato Senza burro Il Rabbino Anche lui Trasecola Diventa anche lui Bianco E dice Mi stai prendendo in giro Guarda questo È molto grave È un fatto mistico Rabbino ti giuro Ce l'ho testimoni Il Rabbino dice Vai a casa Devo studiare E il Rabbino Comincia lo studio Estrai i libri Della cabalà Lo zoar Il libro della vita E tutto E comincia anche A scrivere lettere A tutti i cabalisti Del mondo A quelli che abitano Negli anfratti Più reconditi Di Gerusalemme A quelli Della splendida Praga ebraica Pietroburgo New York Dovunque Scambio di lettere Responsa Smontano Quello a cui sono arrivati Ricominciano Per tre anni Per tre anni Questo lavorio Dei grandi mistici Finché un giorno Il congregante Yankhele Si sente convocare Dal suo Rabbino Arriva rosso Emozionato E il Rabbino Gli dice Yankhele Siediti Ascoltami Ce l'abbiamo fatta Tre anni Abbiamo lavorato Per te Tutto il mondo Della cabala Ha lavorato Solo per te Finalmente Siamo arrivati A un'animità A una e una Sola conclusione Caro Yankhele A quello Che ti è capitato C'è una e una Sola risposta Yankhele Hai imburrato Il fetta di pane E dal lato Sbagliato Che strozza Solo Che strozza Un piccolo Dovere Ebraico A una persona Che si congeda Da noi Va rivolta A una benedizione Si crede Che lo facciano Solo i credenti E sciocco Benedire è lecito A tutti La mia Una benedizione Da non credente A non credente Che Dio Ti benedica E ti protegga Soprattutto Perché non Gli credi Noi oramai Lo sappiamo Da lungo tempo Il buon Dio Nella sua infinita Misericordia Sopporta i credenti Ma predilige Decisamente Gli atei Non saprei Pepper Io ti consiglio sempre Le origini del totalitarismo Dell'Arendt Ma solo per il comunismo Sul capitalismo Guarda fuori dalla finestra Qualunque libro va bene Non c'è mai stato altro Fenomenologia di Mike Buongiorno Questo però non richiede Questo non richiede L'inno di Forza Italia Fenomenologia fa Fa ridere Beh fa ridere Oddio In realtà è bellina Quella barzelletta In realtà Però mi devi raccontare La barzelletta Tosatto L'uomo circuito Vogliamo fare le premesse? Vogliamo fare le solite premesse? Chi era Mike Buongiorno Come interpretare Questo testo Che è del Guardate quanto è corto 1961 Questo è una cosa Un'impaginazione da Word Il testo che è rimasto Nella storia Della nostra cultura Due paginette di Word Cosa volevo dire? Testo del 1961 La televisione In Italia C'era un canale unico Ancora credo Nel 61 Mike Buongiorno Era il grande Presentatore televisivo L'Amadeus Il Carlo Conti Dell'epoca Lo dico per chi Non sapesse Chi fosse Mike Buongiorno Grande personaggio Riconosciuto da tutti Naturalmente Il traslarlo Al mondo di internet È abbastanza incerta Come cosa Però in qualche modo Anche questo testo Può parlare Di Un certo tipo Strano Di idolatria Se avessimo Possibile fare una domanda A Umberto Eco Cosa gli chiederesti? Gli chiederei Come è possibile Che io ti stia facendo Una domanda? E quindi Ma io non credo Ci sia poi tanto da dire Vabbè Mike Buongiorno È stato quello Era un gaffer Era una persona Che faceva un sacco di gaff Era noto Per essere maldestro Da un punto di vista Comunicativo Per essere goffo Ma credo che niente Lo descriva poi Come questo testo Che serve dirlo? Eh certo Idrossida Perché no? Grazie Cedda Grazie del Prime E anche io Cristiano A quel punto Pensavo Ma non mi dire Che Umberto Eco Raccontava la cazzata Del gatto E della fetta imburrata L'uomo circuito Dai mass media È in fondo Fra tutti i suoi Quindi comunque Cercate di pensare All'oggi Non pensate Ah certo Dario Assolutamente sì Assolutamente sì Altra cosa assolutamente Da chiedergli Lo so che hai scritto Altra roba sotto pseudonimo Dimmi quale Ah ma quella rimarrà Sempre la quest Per i veri studiosi Di Umberto Eco Un giorno si scopriranno I suoi testi Nascolto Vedrete che sia divertito Sicuramente L'uomo circuito Dai mass media È in fondo Fra tutti i suoi simili Il più rispettato Sì lo so anche io Ubiquitas È tanta invidia Mi ricordo che Mike Bongiorno Dice che c'era Tanta invidia Tanta invidia Pensate 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 essere Umberto Eco Che già E Mike Bongiorno Ti dice che lo invidi Ok L'uomo circuito Da mass media È in fondo Fra tutti i suoi simili Il più rispettato Non gli si chiede mai Di diventare ciò Che egli è già In altre parole Gli vengono provocati Desideri Studiati sulla falsariga Delle sue tendenze Tuttavia Poiché uno dei compensi Narcotici A cui ha diritto È l'evasione Nel sogno Gli vengono presentati Di solito degli ideali Tra lui e i quali Si possa stabilire una tensione Per togliergli Ogni responsabilità Si provvede però A far sì che questi ideali Siano di fatto irraggiungibili In modo che la tensione Si risolva in una proiezione E non in una serie Di operazioni effettive Volte a modificare Lo stato delle cose Ragazzi Sto passaggio è fantasticissimo Fantasticherrimo Lo rileggiamo Così diamo respiro L'uomo circuito Dai mass media È in fondo Fra tutti i suoi simili Il più rispettato Non gli si chiede mai Di diventare Ciò che egli è già In altre parole Gli vengono provocati Desideri studiati Sulla falsariga Delle sue tendenze Tuttavia Poiché è uno Dei compensi narcotici A cui ha diritto È l'evasione nel sogno Gli vengono presentati Di solito Degli ideali Tra lui e i quali Si possa stabilire Una tensione Per togliergli Ogni responsabilità Si provvede però A far sì che questi ideali Siano di fatto Irraggiungibili In modo che la tensione Si risolva In una proiezione Una fantasia In una divagazione Potremmo quasi dire E non In una serie Di operazioni effettive Volte a modificare Lo stato delle cose Insomma Gli si chiede Di diventare un uomo Con il frigorifero E un televisore Da 21 pollici Ora voi Traslate all'oggi Traslate all'oggi E cioè Gli si chiede Di rimanere com'è Aggiungendo agli oggetti Che possiede Un frigorifero E un televisore In compenso Gli si propone Come ideale Kirk Douglas O Superman Ok Grande attore Di Hollywood Non so Leonardo Di Caprio O Supereroe Che volete voi Spider-Man C'era già anche quello L'ideale del consumatore Di mass media È un superuomo Che egli non pretenderà mai Di diventare Ma che si diletta E impersonare fantasticamente Come si indossa Per alcuni minuti Davanti a uno specchio Un abito altrui Senza neppur pensare Di possederlo un giorno La situazione nuova In cui si pone A riguardo la TV È questa La TV non offre Come ideale In cui immedesimarsi Il Superman Ma l'Everyman La TV presenta Come ideale L'uomo assolutamente Medio A teatro Juliette Greco Appare sul palcoscenico E subito Crea un mito E fonda un culto Josephine Beckers Catena rituali Idolatrici Ed ha il nome A un'epoca In TV Appare a più riprese Il volto magico Di Juliette Greco Ma il mito Non nasce neppure L'idolo Non è Costei Ma l'annunciatrice E tra le annunciatrici La più amata E famosa Sarà proprio quella Che rappresenta meglio I caratteri medi Bellezza Modesta Sex appeal Limitato Gusto discutibile Una certa casalinga Inespressività Ora nel campo Dei fenomeni quantitativi La media rappresenta Appunto Un termine di mezzo E per chi non vi si è Ancora uniformato Essa rappresenta Un traguardo Secondo la nota Butad La statistica E quella scienza Per cui se giornalmente Un uomo mangia due polli E un altro nessuno Quei due uomini Hanno mangiato un pollo Ciascuno Per l'uomo che non ha mangiato La metà di un pollo Al giorno È qualcosa di positivo Cui aspirare Invece nel campo Dei fenomeni qualitativi Il livellamento alla media Corrisponde al livellamento a zero Un uomo che possieda Tutte le virtù morali E intellettuali In grado medio Si trova immediatamente A un livello minimale Di evoluzione La medietà aristotelica È equilibrio Nell'esercizio Delle proprie passioni Retto dalla virtù Discernitrice Della prudenza Mentre nutrire Passione in grado medio E avere una media prudenza Significa essere Un povero campione Di umanità Il caso più vistoso Di riduzione Del superman All'everyman Lo abbiamo in Italia Notare che questi refusi Non ci sono Nell'originale È passato un po' di tempo Lo abbiamo in Italia Nella figura di Mike Bongiorno E nella storia Della sua fortuna Idolatrato Da milioni di persone Quest'uomo Deve il suo successo Al fatto che In ogni atto E in ogni parola Del personaggio Cui dà vita Davanti alle telecamere Traspare una mediocrità Assoluta Unita Questa è l'unica virtù Che egli possiede In grado eccedente Ad un fascino immediato E spontaneo Spiegabile col fatto Che in lui Non si avverte Nessuna costruzione O finzione scenica Sembra quasi Che egli veda Per quello che Che egli si venda Scusatemi Sembra quasi Che egli si venda Per quello che è E che quello che è Sia tale Da non porre In stato di inferiorità Nessuno spettatore Neppure il più sprovveduto Lo spettatore Vede glorificato E insignito Ufficialmente Di autorità nazionale Il ritratto Dei propri limiti Per capire questo Straordinario potere Di Mike Bongiorno Occorrerà procedere A un'analisi Dei suoi comportamenti Ad una vera e propria Fenomenologia Di Mike Bongiorno Dove si intende Con questo nome Indicato Non l'uomo Ma il personaggio Mike Bongiorno Non è particolarmente Bello Atletico Coraggioso Intelligente Rappresenta Biologicamente parlando Un grado modesto Di adattamento All'ambiente L'amore isterico Tributatogli Dalle teenagers Va attribuito In parte Al complesso materno Che egli è capace Di risvegliare In una giovinetta In parte Alla prospettiva Che egli lascia Intravedere Di un amante ideale Sottomesso e fragile Dolce e cortese Questo discorso Lo vedo molto più attuale Se penso alla politica Molto attuale Se penso alla politica Mike Bongiorno Non si vergogna Di essere ignorante E non prova Il bisogno Di istruirsi Non si vergogna Di essere ignorante E non prova Il bisogno di istruirsi Lo vedo Un discorso Molto premonitore Sulla politica Ecco questo tantissimo Entra a contatto Per via del fatto Che era il presentatore Dei quiz Entra a contatto Con le più vertiginose Zone dello scibile E ne esce vergine E intatto Confortando Le altrui Naturali tendenze All'apatia E alla pigrizia mentale Pone gran cura Nel non impressionare Lo spettatore Non solo mostrandosi All'oscuro Dei fatti Ma altresì Decisamente Intenzionato A non apprendere nulla In compenso Mike Bongiorno Dimostra Sincera E primitiva Ammirazione Per colui Che sa Di costui Pone tuttavia In luce Le qualità Di applicazione E manuale La memoria La metodologia Ovvia ed elementare Si diventa colti Leggendo molti libri E ritenendo Quello che dicono Non lo sfiora Minimamente Il sospetto Di una funzione Critica E creativa Della cultura Di essa Ha un criterio Meramente quantitativo In tal senso Occorrendo Per essere colto Aver letto Per molti anni Molti libri È naturale Che l'uomo Non predestinato Rinunci A ogni tentativo Mike Bongiorno Professa Una stima E una fiducia Illimitata Verso l'esperto Un professore È un dotto Rappresenta La cultura Autorizzata È il tecnico Del ramo Gli si demanda La questione Per competenza L'ammirazione Quindi non è L'esperto In versante scientifico Capite L'ammirazione Per la cultura Tuttavia Sopraggiunge Quando In base alla cultura E ti ringrazio Dandy Ti ringrazio Molto Del prime L'ammirazione Per la cultura Tuttavia Sopraggiunge Quando In base Alla cultura Si viene A guadagnare Denaro Allora Si scopre Che la cultura Serve a qualcosa L'uomo mediocre Rifiuta Di imparare Ma si propone Di far studiare Il figlio Che amara Che amara Mike Mike Buongiorno Buongiorno Ha una nozione Piccolo Borghese Del denaro E del suo valore Pensi Ha guadagnato Già Centomila lire È una bella sommetta Mike Buongiorno Anticipa quindi Sul concorrente Le impietose Riflessioni Che lo spettatore Sarà portato a fare Chissà come sarà Con te E reagisce Fa la reaction Se ci pensate Chissà come sarà Contento Di tutti quei soldi Lei che è sempre Vissuto Con uno stipendio Modesto Ha mai avuto Tanti soldi Così tra le mani Mike Buongiorno Come i bambini Conosce le persone Per categorie E le appella Con comica deferenza Il bambino dice Scusi Signora guardia Usando tuttavia Sempre la qualifica Più volgare E corrente Spesso dispregiativa Signor spazzino Signor contadino Mike Buongiorno Accetta tutti Ma questo è bello Questo è bello Mike Buongiorno Accetta tutti i miti Della società In cui vive Alla signora Balbiano D'Aramengo Bacia la mano E dice che lo fa Perché si tratta Di una contessa Sic Oltre ai miti E qui Il riferimento Non è ovviamente Baricco Ma sono i miti D'oggi Oltre ai miti Accetta Della società Le convenzioni È paterno E condiscendente Con gli umili Deferente Con le persone Socialmente qualificate Elargendo Denaro È istintivamente Portato a pensare Senza esprimerlo Chiaramente Più in termini Di elemosina Che di guadagno Mostra di credere Che nella dialettica Delle classi L'unico mezzo Di ascesa Si è rappresentato Dalla provvidenza Che può Occasionalmente Assumere il volto Della televisione Berlusconi Che diceva Alle donne Che dovevano sposare Gli uomini ricchi Mike Buongiorno Parla Un basic Italian Il suo discorso Realizza Il massimo Di semplicità Abolisce I congiuntivi Le proposizioni Subordinate Riesce quasi A tendere Invisibile La dimensione Ah scusa A rendere Questo deve essere Stato Scannerizzato Riesce quasi A rendere Invisibile La dimensione Sintassi Evita i pronomi Ripetendo sempre Per esteso il soggetto Impiega un numero Stragrande di punti fermi Qui proprio come baricco Non si avventura mai Questo baricco narratore Non si avventura mai In incisi e parentesi Non usa espressioni ellitiche Non allude Utilizza solo metafore Ormai assorbite Dal lessico comune Il suo linguaggio Rigorosamente referenziale E farebbe la gioia Di un neopositivista Non è necessario Fare alcuno sforzo Per capirlo Qualsiasi spettatore Avverte che All'occasione Egli potrebbe essere Più facondo Di lui Non accetta L'idea Che a una domanda Possa esserci Più di una risposta Guarda con sospetto Alle varianti Nabucco E Nabucco Donosor Non sono la stessa cosa Egli reagisce Di fronte ai dati Come un cervello elettronico Perché è fermamente Convinto che A è uguale ad A E che terzium Non datur Aristotelico Per difetto La sua pedagogia È di conseguenza Conservatrice Paternalistica Immobilistica Mike Bongiorno È privo di senso Dell'umorismo Ride perché È contento Della realtà Non perché Sia capace Di deformare La realtà E questo lo vediamo Con l'elogio di Frantia Gli sfugge La natura Del paradosso Come gli viene proposto Lo ripete Con aria divertita E scuote il capo Sottintendendo Che l'interlocutore Sia simpaticamente Anormale Rifiuta Di sospettare Che dietro il paradosso Si nasconda Una verità Comunque Non lo considera Come veicolo Autorizzato Di opinione Mamma Queste parti Sono enormi Il pensiero Paradossale Qualcosa di alieno All'Everyman Evita la polemica Anche su argomenti illeciti Non manca di informarsi Sulle stranezze Dello scibile Una nuova corrente Di pittura Una disciplina strusa Mi dica un po' Si fa tanto parlare oggi Di questo futurismo Ma cos'è di preciso Questo futurismo Ricevuta la spiegazione Non tenta Di approfondire la questione Ma lascia avvertire Anzi il suo educato Di senso Di benpensante Rispetta comunque L'opinione dell'altro Non per proposito ideologico Ma per disinteresse Di tutte le domande possibili Su di un argomento Sceglie quella Che verrebbe per prima In mente a chiunque E che una metà Degli spettatori Scarterebbe subito Perché è troppo banale Cosa vuol rappresentare Cosa vuol rappresentare Quel quadro Come mai si è scelto Un hobby così diverso Dal suo lavoro Come le viene in mente Di occuparsi di filosofia Porta i cliché Alle estreme conseguenze Una ragazza educata Dalle sue ore È virtuosa Una ragazza Con le calze colorate E la coda di cavallo È bruciata Chiede alla prima Se lei Che è una ragazza Così per bene Desidererebbe diventare Come l'altra Fattogli notare Che la contrapposizione È offensiva Consola la seconda ragazza Mettendo in risalto La sua superiorità fisica E umiliando L'educando In questo vertiginoso Gioco di gaff Non tenta neppure Di usare perifrasi La perifrasi È già un'agudezza E le agudezzas Appaiono Appartengono A un ciclo vichiano Cui buongiorno È estraneo Per lui Lo si è detto Ogni cosa ha un nome E uno solo L'artificio retorico È una sofisticazione In fondo La gaff Nasce sempre Da un atto Di sincerità Non mascherata Quando la sincerità È voluta Non si ha gaff Ma sfida E provocazione La gaff In cui buongiorno Eccelle Ha detta dei critici E del pubblico Nasce proprio Quando si è sinceri Per sbaglio O per sconsideratezza Quanto più mediocre L'uomo mediocre È maldestro Quanto più è mediocre L'uomo mediocre È maldestro Mike Buongiorno Lo conforta Portando la gaffa Dignità di figura retorica Nell'ambito di un'etichetta Omologata Dall'ente trasmittente E dalla nazione In ascolto Mike Buongiorno Gioisce Sinceramente Col vincitore Perché Onora Il successo Cortesemente Disinteressato Al perdente Si commuove Se questi Versa In gravi condizioni E si fa promotore Di una gara Di beneficenza Finita la quale Si manifesta Pago E ne convince Il pubblico Indi Trasvola Ad altre cure Confortato Sull'esistenza Del migliore Dei mondi possibili Egli ignora La dimensione Tragica Della vita Mike Buongiorno Convince dunque Il pubblico Con un esempio Vivente E trionfante Del valore Della mediocrità Non provoca Complessi di inferiorità Pur offrendosi Come idolo E il pubblico Lo ripaga Grato Amandolo Egli rappresenta Un ideale Che nessuno Deve sforzarsi Di raggiungere Perché chiunque Si trova già Al suo livello Nessuna religione È mai stata Così indulgente Con i suoi fedeli In lui Si annulla La tensione Tra essere E dover essere Egli dice Ai suoi adoratori Voi siete Dio Restate immoti Devo dire Che mi fa pensare Tantissimo Alla politica Tantissimo Ai requisiti Per essere Un leader politico Questo è interessante Proprio perché Ti ha richiesto Quel consenso Quell'ampio consenso Molto Molto interessante Molto molto interessante Soprattutto considerando Che Mike Buongiorno Diventerà figura Di riferimento Della tv berlusconiana E non c'è bisogno di dire Che questo avrà qualcosa A che vedere con la politica Mike Buongiorno Non mancherà di fare Sì Più la politica Che l'intrattenimento Mike Buongiorno Non mancherà di fare Il suo endorsement Ovviamente A Berlusconi Questo non c'è Non c'è Bisogno di dirlo Cosa intende per ciclo Vichiano qui? Non lo so Non te lo so dire Ho anche studiato Vico Non mi ricordo un cazzo Sì, sì, sì Porca loca Per carità Sì, sì, sì Ma l'introspezione È una autrospezione Tu non sei il creatore Dei tuoi segni Né dei tuoi pensieri È tutto preso a prestito Da fuori Per studiare Vuoi conoscere te stesso? Conosci i tuoi contesti E la storia dei tuoi contesti E lavora su di essi L'introspezione è il sogno Di quelli che si immagino Di quelli che si immaginano Che ci sia un io Un ego Un qualcosa dentro Che nasce prima del mondo E tale Certamente c'è una genetica Ma Oltre a quello A meno che tu non voglia farti Come si chiama? L'analisi del codice genetico E tu fai l'introspezione Pepper È un'autrospezione Anche se non lo sai Sceglio Se ne abbiamo parlato Tante volte Quando ci sarà Quando ci sarà Esatto Simone Quando ci sarà L'elezione del presidente Della Repubblica Soprattutto Quando saremo lì lì Con l'elezione Del presidente Della Repubblica Ragazzi Io spero si possa Ma sicuramente si potrà E chissà quanti lo faranno Su Twitch Spero che si possa fare Una Come posso dire Una Una live In cui lo seguiamo in diretta Sì 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 Il ciclo Vichiano Ma io credo che qui Lui sia un po' più complicato Il discorso del ciclo Vichiano Non credo sia semplicemente Il discorso dei corsi e ricorsi storici Però mi ricordo un cazzo E quindi mi piacerebbe fare Mi piacerebbe fare una live Soprattutto quando sarà Il momento decisivo Ma non credo Non credo Non credo Se posso parlare di rifamazione Ma perché? Anche perché Se lui si premura Dicendo che parla del personaggio Non della persona Sì assalitore Però se pensiamo Ai freak stile Maria De Filippi Ma allora forse Un po' di Mike Buongiorno C'è in realtà Ah vai tranquillo Peppe Quindi se è una cosa Fattibile Che si riesce A fare A fare Lo possiamo fare E che le prime Cosa sono? Le prime tre votazioni Vogliono i due terzi Se non erro È una cosa del genere Quindi in realtà Credo che il primo giorno Sia totalmente inutile seguire A meglio che non arrivi Il plebiscito E quindi Non seguiamo subito Però più o meno Si dovrebbe capire Qual è un giorno Che ci si può aspettare Che accada qualcosa Ora è un po' che non Non guardo Però si potrebbe farlo La presentatrice televisiva Sabina Ciuffini Valletta di Buongiorno Nel cui si rischia tutto Ricorda invece che Durante le prove Buongiorno portava molto spesso Con sé una copia del saggio Obbligandola a leggerlo E ammonendola sul fatto Che era quello Il segreto del loro successo Direi E direi Esatto esatto L'inizio Soprattutto pleticosa È così Assolutamente sì Assolutamente sì Io non sono affatto Ma Com'è che si chiama Com'è che si chiama Mieli Si chiama Mario Come cazzo si chiama Mieli Un vuoto totale Paolo Ma che cazzo dico Mario Paolo Mieli Scusate Paolo Mieli ha detto Che secondo lui I voti ci sono Giustino Secondo lui I voti ci sono Per Berlusconi Ha detto Ha detto Che c'è tanta gente A sinistra Che voterà Berlusconi Per Per mandare un segnale Di vaffanculo Alla coalizione E al partito E quindi Che in realtà Esistano i voti Sapete Una cosa che Ricordo Grazie Tito Pana Grazie del Tifo Una cosa che ricordo Molto bene Del Berlusca E che non dobbiamo Dimenticare E che non è uno Che molla facilmente Certo assalitore Assolutamente sì Cioè Non è uno Che Che accetta Il no come risposta Che è una cosa Anche sempre Abbastanza violenta Come idea E quindi La vedo La vedo Abbastanza Abbastanza Non credo sia Una boutade Non credo sia Una cosa che salterà subito E si passerà subito Ad altro Credo che Sia possibile Che ci si Incastri Su quella cosa lì Parecchio E quindi Esatto Come Trump In questo assolutamente Sì Secondo me Diventeremo Torneremo Finalmente ad essere Il zibale d'Europa Del mondo occidentale Era il nostro ruolo In epoca berlusconiana E torniamo ad essere Non c'è dubbio Non c'è dubbio Io non so Per i berlusconi Quanto stia bene Di salute È una persona Che vediamo sempre In ospedale Poi Ma più che altro Draghi servirebbe Dov'è adesso È per questo Che ad esempio Salvini È pro berlusconi È questa divisività Ragazzi Quando serve Il 50% Più uno Non è più Tanto importante Ci mancherebbe Altro Di critica Alla figura Di berlusconi Presidente Della repubblica Se ne possono fare Veramente infinite Ragazzi Altro che la divisività Ma Non è una cosa Che berlusconi Interessa Se vi ricordate Se conoscete Un pochino Berlusconi Questi non sono ragionamenti Che entrano neanche Nelle sue orecchie Lui sta ragionando Qual è la quest Che ha berlusconi davanti È quella Di persuadere I parlamentari Che non ha Dalla sua parte Se c'è una cosa Che berlusconi Sa fare È questa Conquistare parlamentari Qui poi si tratta Soltanto di un voto Presidente della repubblica Sai che roba E quindi Non lo so Ho la sensazione Che siamo alla vigilia Di una grande gag Poi Esatto King of Summer Poi c'è il discorso Di Renzi Quindi Insomma Con il sorriso Dimmi Naturalmente Con il sorriso Con il sorriso Ragazzi Vengo dal Umberto Sbaila Tra l'altro Vengo dal 2033 Il presidente Cyborg Berlusconi Ha imposto Il coprifuoco Alle 18 Per chi non Considera Ah peccato Ero appeso Ero appeso Ah ci credo Greg Ci credo Sarebbe giusto farlo Me la dovrei procurare Anch'io Una bottiglia Ah ma tu intendi Quell'altra cosa No Quella non E comunque Non lo potrei fare In live Ci sta Per certi versi No 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 Bisognerebbe Una ironica E melanconica Bottiglia Da stampare Da stampare Quando diventerà presidente Eh vedi Silvio A proposito Non ne sono così convinto Angelo Io non sottovaluterei La spudoratezza E la tenacia Che se sono due cose Che abbiamo imparato Di Berlusconi Sono quelle Io non sottovaluterei Io credo che lui Voglia il bersaglio grosso Poi magari non riuscirà Ad ottenerlo E si accontenterà di altro Intanto Si è posto in una posizione In cui per Per evitare il peggio Sei comunque costretto A mettere un suo del filo Ma io credo Che a Berlusconi Faccia veramente Veramente Gola È Una cosa Che in fondo Lui vede come La celebrazione Oltre che la presa Per il culo finale Ovviamente Come la La legittimazione finale La conquista finale Per certi versi Pagliaio Ma chi ti dice Che vedi le mie mani Sulla tastiera Che ne sai Di cosa sto usando Per scrivere Potrei stare scrivendo In chat Con il mio pene Non è assolutamente Da escludere Voi non potete saperlo Non sono così trasparente Troll supremo Certo Sì sono d'accordo L'ultimo atto Lui voleva il Nobel Ragazzi Lui si è davvero mosso E ha fatto muovere gente Per ottenere il Nobel Per la pace Non è uno scherzo Ok Non è una cosa Che può riuscire Ad influenzare Eccetera Però Questo è il platino Sì sono d'accordo Questo per Berlusconi Sarebbe il platino Il platino Sarebbe diventare Presidente Ma c'era una canzone C'era una canzone Scusate un secondo Ma c'era una canzone Su Berlusconi Nobel Lo sono sognato Ma è reale Tanto questa non la monetizza Ma è reale Ho una presa per il culo A me sembrava Sembrava ci fosse una canzone Su Berlusconi Nobel No La verifica dell'età Vaffanculo Niente Ciao Non lo voglio fare adesso Quindi È una cosa pallosissima Ho sempre rifiutato di farla Google Sono youtuber Eccetera Sa benissimo Che ho 18 anni Ma devo dimostrargli Che ho 18 anni Vabbè sti cazzi Un giorno lo farò Almeno pensa ai bambini Esatto John Chong Vediamo un po' Ah beh qua parla di covid Ok No sul discorso Berlusconi In realtà c'è un articolo Che vorrei leggervi Da valigia blu Come dicevo giustamente Ricco il colore Non è quello giusto Ma questo articolo è carino Questo articolo è carino Beh certo pagliaio In un certo senso sì Ho capito Sguardo Un'altra volta Un'altra volta Il nobile a Berlusconi Le motivazioni Vorrei leggervi Quest'articolo Che è interessante L'attesa di Berlusconi Presidente È essa stessa Berlusconi Presidente È bello il titolo È una gag È un meme Già sentito Ma questo ci sta A giornalmente A 2033 Un Wesa Incanutito Già oggi Si affaccia Mentre il nuovo esercito Dei mille partito Da Segrate Guidato da Cyber Sirio Conquista le ultime Sacche di resistenza Comunistoi Dei quel di volo Lo spirito del mondo Col parrucchino Sospira Prima di ritirarsi Sconsolato in casa L'attesa di Berlusconi Presidente È essa stessa Berlusconi Presidente No sì Lui abbiamo letto Un po' Schierate Però Questo lo voglio leggere Mi pare E così Nel gennaio 2022 Dobbiamo parlare Dell'ipotesi Che Silvio Berlusconi Possa diventare Presidente della Repubblica O quantomeno Del fatto che lui Creda molto A questa possibilità E che di conseguenza Ci credano O fingano Molto bene Tutta una serie Di parlamentari Di persone retribuite Direttamente O indirettamente Dalla famiglia Berlusconi A suggellare La geografia Del capo Cui le reti Mediaset Si sono dedicate Nelle ultime settimane È arrivata Nei giorni scorsi L'iniziativa Di Forza Signore Se lo sappiamo Il Dipartimento Di Forza Italia Che raccoglie Gli over 65 Iscritti al partito Con una pagina Uscita sul giornale Di proprietà Della famiglia Berlusconi Nella pagina Si incensano I risultati Ottenuti da Berlusconi Tra cui La fine della guerra fredda E l'accordo Di pratica di mare La mitomania Dei piazzisti Al potere Spacciata Per rivoluzione Salvifica Si legge anche Infatti Di come il nostro Abbia evitato Al paese La nascita Di un regime Illiberale Ed è subito 1994 Chi si loda Si imbroda Beh dillo Berlusconi Verebbe da dire Ma se siete nati Dopo gli anni 80 Non preoccupatevi È tutto grottescamente Normale Già lo sappiamo Anche i titoli Sulle telefonate Che iniziano con salve Sono quello Del bunga bunga O sulla operazione Scoiattolo Negli anni 90 Quando Berlusconi Annunciò la mitica Discesa in campo E molti sghignazzarono Soprattutto a sinistra Mentre in quella vasta area Che va dai moderati All'estrema destra Passando per i moderati Tra virgolette Quelli che sono di destra Ma hanno troppo pudore Si intravide una palingenesi Miracolosa La cosiddetta Rivoluzione liberale Qui inteso Qui siamo molto a sinistra Come impostazione Non la rivelazione Di un messia laico Quanto piuttosto La possibilità Di poter finalmente Sbracare Tra una battuta scoggia E un appalto agli amici Cosa c'è di meno Questo è giusto Cosa c'è di meno liberale Di un monopolista Che si butta in politica Per fare lobby di sé Direi Sempre stato Incredibilmente Ironico Amaramente ironico Ogni riferimento Di Berlusconi Al pensiero liberale Sempre stata una roba Che uno dice Ma sei serio È così che iniziano Le tragedie in politica Tra i sorrisetti furbi Di che pensa Di saperla più lunga E gli sguardi Imbarazzati o perplessi Mentre avanza l'idolatria Del nuovo istrione di turno Il cui circo permanente Rende arduo Coltivare scetticismo O disincanto Anche solo per il frastuono Continuo L'istrione Così riesce a occupare L'immaginario Di un intero paese Che o per amore O per odio Non riesce a fare meno di lui A star dietro all'istrione C'è del resto Da mangiare per tutti O quantomeno Per chi vuole contare Se si capisce questo Si capisce anche Che non ci vuole molto Poi a strisciare fuori Dall'inconscio di un popolo E tornare sotto i riflettori Non importa Quanto tempo sia passato L'immutabilità politica Di fondo Nascosta tra Apparenti cambi di casacca Nuove retoriche Riposizionamenti Sta tutta In questo video Del terzo segreto Di satira Che in realtà Ci possiamo anche Ciao a tutti Ciao Allora ben trovati Al nostro appuntamento Settimanale Degli Incoerenti Anonimi Come sapete Questo È uno spazio Condiviso E protetto Dove non dovete Avere paura Di esternare Le vostre incoerenze Allora C'è qualcuno Che vorrebbe cominciare? Vabbè Posso cominciare io? Prego Ciao Sono il PD Ciao PD Sentiamo PD Quali sono Le vostre incoerenze? Vabbè Noi Diciamo Che vogliamo cambiare I decreti sicurezza E poi non li cambiamo Diciamo Di non voler governare Con la Lega E poi ci governiamo Diciamo di voler fare Lo Ius Soli E non lo facciamo Sì bene Sono tutte cose Che dici sempre Però Proviamo a guardare Il quadro più generale Qual è la vostra Più grande incoerenza? Dai Ce la puoi fare Ah sì Che diciamo Di essere un partito Di sinistra E poi invece Non lo siamo Bravo PD Bravo PD Bravo PD Bravo PD Ciao a tutti Io sono Italia Viva Ciao Italia Viva Ciao Italia Viva Noi abbiamo detto Che lasciavamo la politica Dopo il referendum perso E siamo ancora qui Abbiamo sempre contestato I partitini al 2% Tipo Mastella E adesso che siamo come loro Pensiamo siano fondamentali Noi abbiamo sempre Ma voi chi? Noi Ma perché parli al plurale? Non ti segue più nessuno? Non mi sono ancora abituato Ah facciamo comunque Un applauso Di incoraggiamento Draghi è merito nostro No Mio No va bene Va bene Ciao Io sono il Movimento 5 Stelle Ciao 5 Stelle Allora noi abbiamo detto Nessuna alleanza E poi in realtà Ci siamo alleati Prima con la Lega E poi col partito Di Bibbiano Quanto ci sta la maglia del Joker Scusami No Figurati No Tav No Tav No Draghi In realtà abbiamo votato tutto Però su una cosa Rimaniamo intransigenti Massimo due mandati Cioè Col mandato 0 Poi diventano 3 Ma poi basta Chiusa lì Bravo 5 Stelle Grazie Bravo Bravo Ciao Ciao Sono la Lega Ciao Lega E niente Noi avevamo una certezza Che odiavamo i Teroni E poi abbiamo chiesto i voti al Sud Poi l'Europa no Poi l'Europa sì Draghi è cattivo Draghi è buono Poi è arrivato il Covid Prima c'è Poi non c'è Poi c'è un po' Sulla mascherina Giù la mascherina Apri tutto Chiudi tutto Ma adesso qual è la vostra posizione? Ma non lo so Prova a fare uno sforzo Ti sarà rimasto un po' di coerenza no? Vabbè sì Odiamo ancora i negri E i froci Grazie Grazie Ciao a tutti Io sono Forza Italia Ciao Ciao Forza Italia Vado spedito perché le cose da dire sono veramente tante Innanzitutto Ma non c'è Fratelli d'Italia No ma mi disse Non è che sia una cosa ironica Chiaramente Non è un contenuto razzista Non è un contenuto razzista Ovviamente Tutto abbiamo sempre fatto gli interessi del nostro padrone Spacciando per bene comune leggi al personamo Siamo stati fra i primi a nominare ministri e assessori totalmente incapaci Scelti unicamente per la loro fedeltà E devo dirlo insomma adesso lo fanno un po' tutti Abbiamo avuto importanti rapporti con Cosa Nostra E questo lo dico con un po' d'orgoglio Insomma abbiamo contribuito notevolmente al decrino politico, sociale, culturale dell'Italia Compromettendo totalmente la nostra reputazione all'estero Poi un'ultima cosa importante Siamo ancora totalmente convinti che Ruby sia la nipote di Mubarak Mubarak, non so come cazzo si dice Scusami Forza Italia ma mi sembra un percorso estremamente coerente Lo so infatti Io stavo cercando il corso di rumba che mi hanno detto che era pieno di figa E ti sembra un corso di rumba? No ma tu mi sembri una gran bella figa però Vabbè io vado a ballare dai Vabbè sono tutti stereotipi abbastanza al cazzo Non c'è Fratelli d'Italia scusami Poteva essere interessante Oggi possiamo Non è che sia un grande approfondimento dell'articolo Sì un po' sempre le solite battute Poteva fare più ridere, speravo facessi più ridere E lei è Fratelli d'Italia Oggi possiamo dire, ripensando a quel ventennio e più Era il segno dei tempi che sarebbero venuti Non solo in Italia Se pensiamo all'America di Trump Alla Gran Bretagna di Johnson Alla Brasile di Bolsonaro Se consideriamo come gli interessi privati in politica La cleptocrazia che rode la democrazia liberale La paludosa e ambigua commissione senza soluzione di continuità Siano diventati Commissione di cose Commissione di cose Siano diventati la norma A meno che non vogliate davvero credere Per dirne una Che un senatore che fa conferenze retribuite per un regime Stia svolgendo una missione diplomatica Del resto, quanti di quelli che hanno retto il gioco Un po' come i compari nelle truffe all'epoca Sono ancora lì A spiegare in tv, sui giornali, nei libri Cosa dovrebbe fare la sinistra per vincere A denunciarne le derive illiberali Ma fatevi due chiacchiere Con un giornalista ungherese O una studente di Hong Kong Invece di appestarci con la fuffa A offrire a lettori considerati infanti Una pappetta reazionaria E quanti di quelli che a sinistra Si sono comodamente posizionati dalla parte della ragione Però sedendosi a tavola Alla sinistra del re Ogni tanto avrebbero dovuto provare A pagare il conto di quelle cene O a declinare l'invito O a cambiare commensali A mettere alla prova il divario classista Tra retorica e prassi Questo è prima di tutto un paese disgraziato Perché è incapace di cambiare repertorio Al massimo ogni tanto si svecchiano gli interpreti Cooptando quelli più simili Alla generazione che li ha preceduti Beh, questa cosa è molto vera I cambiamenti quando avvengono Sono più simili a una grazia Che arriva non si sa da dove Se non tra le maglie larghe Di una cultura del potere Che alla fin fine non sa di essere ottusa E fa passare i più stoici O i più folli Cioè, prima di ogni analisi politica Un deprimente senso di stanchezza Che cala sulla testa E rende gravoso il respiro Nel leggere i vari giochini Attorno alla nomina Del prossimo presidente della Repubblica Di cui il nome di Berlusconi È un tassello tutt'altro che anomalo Cioè, prima di tutto Un senso di resa A dover raccogliere firme contro l'ipotesi A dover dedicare copertine di settimanali A ricordare curriculum giudiziario e affiliazioni La vergogna della candidatura Il Quirinale L'ha pregiudicato Berlusconi Scrive Flores D'Arcais D'Arcais? Si dice poi D'Arcais o D'Arche? Che non ho mai capito Io ho sempre detto D'Arcais Ma O anche solo a provare a calare Un briciolo di razionalità negli schemi Anche non ridendo E non scherzando Stiamo pur sempre parlando Della prima carica dello Stato Questo è l'espresso Perché Arcais Ragazzi Ragazzi Arcais Bei tempi quelli di Arcais Non avverrà mai Una bella foto Pur nel dissenso Ragazzi Ragazzi Maynard Che cattiveria Mi dissocio E guardate Dietro ci sono tutte le copertine Su Berlusconi Quanto ci abbiamo campato Su Berlusca ragazzi È vero sì Non avverrà mai Ma sarebbe doveroso Che a un certo punto Io ragazzi Non ci credo Ma sarebbe doveroso Che a un certo punto Un pezzo significativo Di chi negli anni 90 Voleva spiegarci Questa fantomatica Rivoluzione liberale E ancora oggi Regge il gioco A un sepolcro incerato Dicesse Scusate O per ingenuità O per convenienza Abbiamo dato credito Alla stronzata Del rischio Di un regime comunista In Italia E si siamo trovati Col movimento sociale Al governo Ma alla fine Faceva gioco Posizionarci come anticomunisti Fa gioco persino oggi Ma non succederà mai Perché nei giri Che contano L'autocritica È un tormentone Un gaslighting Culturale Che si rivolge agli altri Di solito Chi sta più in basso O più a sinistra Non per altro Ma perché In nome di questo Credo religioso La rivoluzione liberale In un paese malato D'oligarchie Abbiamo assistito Via via A vari presunti Salvatori della patria E alla fine La panzana Ha completato l'orbita E siamo tornati Al punto di partenza Non accadrà Perché poi nel frattempo Un po' come quelle famiglie Dove invece di problematizzare Il genitore abusivo Si problematizzano Gli altri membri Se fai così Certo che ti rifila Le scoppole Si trova spazio Anche nel recitare Fuori da realtà Politiche specifiche Di contesti pratici Il ruolo di quelli Che a sinistra Devono dire Che la sinistra Deve fare autocritica Purché si usi Un certo vocabolario A memoria Avete mai sentito Dibattiti sulla destra Che deve fare autocritica Sull'immigrazione O sulla libertà di espressione Sul proibizionismo Sul diritto di sciopero Sui diritti delle donne Avete mai letto Le insuolate Su le insuolate Avete mai assistito A un cerchio bottista Che dà un colpo Solo alla botte Ma un colpo Bello sodo e forte Eh ma loro sono così Che c'entra Vi diranno Intanto che guardinghi Cercate di capire Se sta per arrivarvi L'ennesima scoppola E così Ci troviamo a discutere Dell'ipotesi Di una persona Il cui profilo politico Avrebbe suggerito Il pensionamento E l'archiviazione storica Ma che essendo In buona compagnia Non può che restare Al suo posto Troppo lunga Sarebbe la schiera Dei pensionabili Per raggiunti Limiti di decenza E a chi ha voglia Di improvvisare dibattiti Anche solo per dire Ma quale decenza Il problema è un altro O per specchiarsi Nella propria intelligenza Viene da dire solo no E passare oltre Lasciandosi intrappolare In questa palude Disfunzionale Per il minor tempo E spazi possibili Perché caso mai Ce ne fossimo dimenticati Siamo in presenza Del vero postmodernismo L'attesa di Berlusconi presidente È essa stessa Berlusconi presidente Un giocare continuamente Attorno al palco Della rappresentazione Lavorando sulle metanarrazioni Sul simbolo Che assorbe ogni esperienza Sulla centralità Totalitaria Del palco Che ottenebra Ciò che sta lontano Dalle luci artificiali Fino a sentirci Magari storditi Perché troppo sazi Di questa sarabanda Di significati Ma allo stesso tempo Qua un po' Sto andando per la tangente Ma allo stesso tempo Privi di una direzione precisa Di un senso Che arrivi oltre quel gioco Ridanciano Sghignazzante Ancora affamati Senza sapere il nome Del cibo che manca Ma non importa Perché subito sul palco Si replica un altro spettacolo Anche perché il palco Sa moltiplicarsi E riprodursi altrove Eternamente centrale Ed eternamente repressivo Verso il periferico Come dimostra anche L'attenzione Che subito La stampa straniera Si è prodigata A rivolgere all'ipotesi Che Mr. Bunga Bunga Diventi presidente Anche solo per la ridanciana O superiore convenienza Che permette di distogliere Dagli scandali sessuali Di casa propria Come quello che Chiama in casa Il principe Andrew Duca di York Coinvolto nello scandalo Epstein C'è chi invece Come Tom York Leader dei Radiohead Sposato con un'attrice italiana Ricorda chiaramente La puzza di cadavere Sotto la tavola imbandita Let the lights Down low Bunga Bunga Or you'll never work In television again Lascia che si abbassino le luci Bunga Bunga O non lavorerai più In televisione Canta nel nuovo singolo Uscito a inizio anno Per The Smile Chi vuol vedere Vede Chi vuol sapere sa E chi ha buona memoria Trova parole perlomeno schiette Tanto sul palco Quanto nelle periferie C'è davvero molto spazio Lontano dalla triste Innesima riedizione Di questo asfittico patriarcato Colore azzurro Viagra Ora mi sono ricordato Perché ho messo Questo articolo Nella lista Perché per una volta Questa parola è perfetta Ecco che per una volta Trovo questa parola Più che perfetta Questo è un uso di patriarcato Che è Dire che è il suo E dire poco Ennesima riedizione Di questo asfittico patriarcato Colore azzurro Viagra Un articolo così Del tipo Sono stremato Sono estenuato Non c'è un cazzo Da spiegare E da argomentare Credo che Sia una Una rappresentazione Molto personale Di questo Matteo Pascoletti Di una esasperazione Di un Ma io boh Ma io boh Ma io non lo so Ma che ho Questa immagine Deve succedere ragazzi Abbiamo bisogno Della catarsi Abbiamo bisogno Deve succedere Perché come paese Abbiamo bisogno Della catarsi Guardatelo Guardatelo Cosa penserà Cosa penserà Di noi Cosa penserà Di noi Ebbene Pensate Che questo gruppo Il gruppo Fininvest È l'unico gruppo Che non ha licenziato Nessuno Mentre in questo momento Ci sono tanti licenziamenti E lo sapete voi Che mi ascoltate In questo momento Quanti di voi Molto probabilmente Andranno in cassa integrazione Per non Anche dire la cosa del genere Porca miseria Eh me le ricordo anche io Ste gag Porca miseria Berlusconi non ha mai licenziato nessuno Vanno via quelli che vogliono andare Non c'è niente di meglio Figlio di 24 anni e mezzo Non c'è via di uscita Per un lavoro Io dico che se Berlusconi C'ha 40.000 operai Non può fare 41 con mio figlio Che tristezza Mamma mia che tristezza Che tristezza ragazzi Forza Italia Forza Italia Forza Italia Forza Berlusconi Forza Berlusconi Forza Italia Forza Italia Per male pubblicità Forza Berlusconi Il pateterno Piene per Berlusconi Forza Italia Forza Italia Tutto il coro Insomma quello là Stalin Tiene per occhetto Ecco E qui E qui Buon compagni Buon compagni in cuffia Buon compagni in cuffia E Satana Anche Satana Tiene per occhetto Mentre Come sappiamo Satana Tiene per occhetto Ovviamente Scusate Ah ragazzi Tutti Italia guardano sta roba Cioè dovete capirla Sta cosa E tutti Tutti Soprattutto le ragazze Guardano tutti sta roba Company Anche Stalin però Ho saputo Tanti Vedere John Chong Cosa mi regali Cani Morandi Dobbiamo cominciare Diamo un senso No vabbè adesso non lo voglio Io ho la fortuna Dopo 45 anni di votazioni Ho votato Di conoscere finalmente Il candidato per cui voterò Ah Perché Ci ho lavorato insieme Da parecchi anni L'ho apprezzato Lo stimo Per cui Fa vedere Il salitore Fa vedere il salitore Cavaglia Berlusconi Lei No Dopo lo dobbiamo guardare Dio sta casa Adesso finalmente so Per chi votare E chi è? L'ex presidente Costiga Ma come costiga? Che c'entra con L'ex presidente nostro Della Fininvest Ha capito adesso Berlusconi Sì ma mica sottovoce Berlusconi Si capisce Berlusconi Forza Italia Oh ma lo sapete che domenica prossima si vota? Tempo vola È una cosa incredibile E tutti si stanno chiedendo Ma forza Italia Silvio Berlusconi Ce la faranno E ce lo stiamo chiedendo anche oggi E ce lo stiamo chiedendo il 17 gennaio 2022 Ce lo stiamo chiedendo il 17 Il tempo vola Porca puttana Porca puttana Il tempo vola Il tempo è stagnante Giustamente Non lo era Frank Non lo era Io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi Quando parlava in televisione A proposi di tutti i progetti che ha Naturalmente ha detto tante cose Molto molto belle Molto interessanti Ma molta gente Chissà perché vengono da me Perché dicono Ma tu lo conosci da tanti anni E mi dicono No 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 Questo è Blob Questo era Canale 5 Vedi che sotto si vede Canale 5 È che Blob lo sta rimettendo sulle tre Poi lo devono aver rieditato Berlusconi promette tante cose Ma poi le farà Beh io vi devo dire Se devo giudicare Dalle mie esperienze Beh io devo dire Che Berlusconi è quello che promette Dillo schierati che tanto ormai Il nostro paese è cresciuto Nella tolleranza per il conflitto di interessi Nell'amore concettuale proprio per il conflitto di interessi Ma altra parte Il paese Non l'ha chieste Non l'ha mai fatta Potete risparmiare giusti e ghezzi Ai quali vanno i nostri auguri Noi non siamo Ditelo a Santoro No no a quell'altro Renzo Biaggi No no a quell'altro Luttazzo Un liguori luttazzato Un liguori luttazzato Siamo gli schiavi Non siamo i cavalli Non siamo i cani Voglio vedere questa È proprio fatta da Lundini Ce l'ha creata lui? Sì Bellissimo Bellissimo Questa non la conoscevo Sarebbe da fare Iago davvero Cavaliere Berlusconi Che tra l'altro qui lui è in luogo di Minoli Non sto a dirvelo Per te che alzo è un po' basso Però io lì sono al massimo Quindi magari alzate un po' Cavaliere Berlusconi Lei si avvicinerà prima o poi all'età dei 92 anni Un'età dopo la quale molte persone non riescono più ad avere rapporti Mi passi il termine carnali Teme questo momento? No Anche perché è un problema che non mi riguarda A posto A posto Cavaliere Berlusconi Ci sono alcuni suoi detrattori che dicono che lei dietro il cranio Abbia nascosto il volto agghiacciante del cattivo di Harry Potter Voldemort Lei cosa dice di questo? Che è una falsità Che è una cosa che non sta in piedi Che non ha senso Dietro Berlusconi c'è Berlusconi Ho capito Beh giustamente Cavaliere Berlusconi Dicono di lei che lei è molto ricco Io a casa ho dei vecchi VHS originali Con tutte le puntate di turisti per caso Con Patrizio Lorenzo e Susi Plevi Che grande Li acquisterebbe per 150 euro Trattabili Ci penso Mi faccia sapere perché devo liberare un armadio Cavaliere Berlusconi Parliamo di cucina Si parla tanto di come va preparata la carbonara C'è chi dice che ci va messo il guanciale Chi l'intera regione delle Marche Io penso che ci vuole l'una cosa e l'altra Che strada Ecco è quello che penso anch'io E' molto molto divertente Si poteva dare molto molto più E' così guys E' così Come disse Berlusconi al Parlamento Europeo Grazie Alexander I miei giornali e le mie televisioni Sono fra i miei più grandi critici E cosa disse in Bulgaria? Beh basta vedere lo storico no? Ma l'avete visto quel mio giornalista Quando parlava di me? E dimostra che non c'è nessun conflitto Tutte storie già viste E già sentite Dura far parte di questa generazione Non avere un certo Una certa sensibilità Il Dalenia Sì sì Questo l'ho visto un sacco di tempo fa Un sacco di tempo fa Unavoidable Samuele lo so tu cosa mi stai proponendo Sono arrivato di corsa Perché il consiglio si è Sempre Questa dovrebbe essere la sigla di chiusura Questa dovrebbe essere la sigla di chiusura Sarebbe da fare Disney Sarebbe da fare di brutto Prolungare È che l'audio fa schifo Cioè l'audio fa troppo schifo di sta cosa Fai dare un Berto Smila Vieni dal futuro Vediamo se mi stai trollando Si deciderà ora la tua permanenza su questo canale Devil Bravo Sto male Cari amici Tra poco Non solo Moda raccoglierà Segreti e confessioni Di Claudia Schiffer Naomi Campbell Linda Evangelista E altre famosissime top model Oltre al previsto Abbiamo anche la contestazione Evviva Muoio 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 Aspetta Lord Macau Aspetta Tanto interrompere questo Ci allontano soltanto il godimento Un preda a un ego smisurato Ah il mausoleo No si la conosco sta gay Però è un po' lunga Però è allucinante Guardate questa cosa qui Sta cosa qui è allucinante Sta cosa qui del mausoleo È allucinante C'è Montanè Berlusconi che offre a Montanelli Un posto nel suo La conoscete Sai famosa Berlusconi che offre a Montanelli Un posto nel suo mausoleo Tipo una tomba assurda Eccetera eccetera Ma Montanelli dice Di cui non sono assolutamente un fan E Montanelli dice Ma guarda Tipo con Falonieri Emilio Fede E compagnia Non vorreste essere inumati Insieme al vostro capo Che poi secondo me Cioè Conoscendo Berlusconi Io sono assolutamente sicuro Che lui si farà ibernare Di quelli che poi Si devono far scongelare Quando si scoprirà La vita eterna Cioè Berlusconi lo fa Berlusconi lo fa sicuro Cioè se non lo fa Berlusconi Chi lo fa? No se non contiene Silvio Non va bene Adesso lo battiamo No con l'olbia Ascolto Mi sembra lo 500 euro Devo andare a mignota Scusatemi Vi devo salutare Perché devo andare a puttane Marzellino Di Berlusconi Di Berlusconi Famosa Adesso me ne ricordo Esattamente Salitore Vieni qua Allora Io già con gli spettatori Di Porta Porta Prima Può spiegare No Terribile Contratto con gli italiani Esatto Esatto Cristiano Esattamente Esattamente Perché finiamo sempre Su Berlusconi Ragazzi Stiamo diventando Un canale fan Di Berlusconi Ma non dica sciocchezza Abbiamo fatto Una battaglia Anche in difesa Di Stalusti Fosse il peggio Ma è ancora peggio del peggio No Sono peggio del peggio No guardi Non gliela do la mano Quando fa così Non l'avevo visto Che andava di petto In realtà L'ha dato Il mezzo al torno Gli ha dato la mano Ma Berlusconi Ha dato di petto Cercando un abbraccio Ragazzi Sta scena È sottovalutata Sta scena è sottovalutata Sta scena è molto sottovalutata Sta scena è molto bella Mi è piaciuta Una fisicità Che non mi sarei aspettato Sono peggio del peggio No guardi Non gliela do la mano Quando fa così Ma guarda Ce l'abbraccio No vabbè Incredibile Incredibile Non se la merita Non mi piace questa cosa Che lei fa Lei si fa imbeccare Dai suoi scrittori Ma no Ma per favore Nel suo emizio giudici Che passano Il tuo figlio E lei dovrebbe essere Un po' superiore Ma no Se fosse Ma che brutto Sto dialogo Che brutto Sto dialogo Però Sta buttando via Sta buttando via Una trasmissione La famosa scena Che Umilia i tuoi Sempre 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 Regola numero uno Che cos'è Io li scippavo Cosa Chi Berlusconi e la Merkel O Berlusconi e Travaglio No mamma Guarda che bene Sto Esatto Mr. Obama Mr. Obama Allora ragazzi Lo possiamo farceli tutti Abbiamo grande fiducia Nella saggezza E nell'equilibrio istituzionale Del Presidente della Repubblica Che chissà Chi sarà A breve Al quale Abbiamo proposto L'urgenza Di una serie Di progetti L'italiano Aspettano Che il centrodestra Aveva posto Composte Campagne Eletorali Passate Berlusconi Essere il numero 3 di questo 3 Come gli deve andare A genio Ricordando i principali temi Su cui abbiamo voglia Di cominciare A lavorare Perché gli italiani Questo ci chiedono Ricordiamo La riduzione Delle tasse Per i giovani 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 Porca miseria Speriamo Che non sia Oddio Dario Da 3 a 30 6 e 40 Aspettami Aspettami Ah beh Vabbè Famosissimo Ringrazio naturalmente Anche gli altri I oratori Che sono intervenuti Signor Grant Watson La signora Monica Frassoni Il signor Francis Troppo famoso Troppo famoso Conosciamo Questo è famoso Però io lo devo assolutamente sentire Devo assolutamente sentirlo Immaginatevelo Immaginatevelo Ragazzi Noi dopo questa live Così Critica Così è Voi dovete immaginarvi Che Wesatwitch È lì durante il comizio E voi quindi I miei cacciotti È lì durante il comizio Noi siamo lì Siamo lì in un angolo Durante il comizio Di Berlusconi E lui si sta Voi dovete immaginarvi Come sigla finale Che lui si stia rivolgendo a noi È questa È questa È questa Quindi lo rifacciamo Lì c'è sul nostro pulpito Traballante Tutti a 666 Siamo lì Ciatterini Ciatterini Comunistelli Cripto comunisti Siamo cripto comunisti Andiamo avanti Sono arrivato di corsa Perché il consiglio Si è Prolungato Oltre al previsto Abbiamo anche la contestazione Evviva Oddio Sono parasociale Verso Berlusconi Questa è la verità Ovviamente Loro lo facciamo in diretta Così almeno Tutti voi Potete capire La differenza fondamentale Che c'è tra noi E loro Noi Non andremmo mai 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 siamo andati Quando è che lo invito in live? A disturbare L'incontro Tra qualcuno Dei loro Virro Che sarebbe una cosa Sublime Sublime No però io Quando Berlusconi Venta presidente Allora quando Berlusconi Sarà presidente della Repubblica Lo voglio dare per scontato Io non voglio Che faccia l'istituzionale Cioè lì Io voglio Vogliamo il finale Vogliamo il finale Che Sorrentino Se lo so Io voglio Che a quel punto Berlusconi Sbrachi Proprio Perda il ritegno Voglio che arrivi vivo Almeno a un discorso Di fine anno E che sia una cosa Deve darcelo Deve darcelo Il Lì Berlusconi Deve Smarmellare E deve dire La verità Deve dirlo Stasera Vi voglio parlare Soltanto Di una cosa Vi ho presi Per il culo Paese Di dodicenni E eccetera Siete veramente Dei Comunisti Ma ragazzi Ma vi rendete conto Di cosa sono riuscito a fare Io una vita così Esatto Dario Esatto 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 Me lo devo ricordare Abbiamo anche Abbiamo anche La contestazione Evviva Siete sempre E prima di bannare Il prossimo tizio Che bannerò Magari se sono due Meglio Siete sempre Dei poveri Comunisti Capi dei loro leader E i loro elettori Perché noi siamo Uomini e donne Democratici E di libertà Ricordatevelo Incredibile La stessa retorica Oddio Oddio Mi sto trasferendo E noi siamo Uomini e donne Di libertà Ricordatevi Si sono messi A strumentalizzare La paura La speranza Il dolore I morti Vergogna Guardate che ride 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 Non avete dignità Ci fossero gli alert Per i banni Evvani Ma che razza Di upgrade Di Twitch Hai appena immaginato Pensate se ci fossero Gli alert per i banni No vabbè Ciao Ciao Sarebbe una cosa stupenda Sarebbe bellissimo Una mega animazione Con una super musica E siete sempre Dei poveri comunisti Tutte le volte Che banni Ogni live Bisognerebbe bannare uno Ci dovrebbe essere Comunque il capro L'animale sacrificale In ogni live Qualcuno dovrebbe essere Bannato Ah ci sono già Quindi ce l'ha Ah so Che figa Bellissimo Bellissimo Si può fare È una cosa stupenda È una cosa stupenda Madonna Con questo audio Ciao Ah beh Certo Pelati Che sciocco Non ho lo stream deck Ma si si può fare Facile Ma che cazzo Ma è ovviamente Basta che lo fai Che ovvietà Scusate Non sapete cos'è la nobiltà d'animo Non sapete Da qui Da qui Da qui Non sapete dignità Non sapete cos'è la nobiltà d'animo Non sapete cos'è la democrazia Non sapete cos'è la libertà Siete ancora E d'oggi come sempre Dei poveri comunisti Ciao Ciao Peccato che non si senti Vuoi guadagnare online? Te lo sconsiglio Oh 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 Però forse possiamo finire con un content non inferiore a quello che abbiamo affrontato finora Attenzione che queste cose mi interessano sempre Vuoi guadagnare online? Te lo sconsiglio Scusate ragazzi oggi si vola Sono le 17.52 Facciamolo Consiglio I metodi che ci sono oggi non fanno altro che farti perdere soldi online Piuttosto che farteli guadagnare Al contempo esiste un qualcosa di tangibile Ma il quadro? Il quadro dietro? Ma ragazzi è una cosa meravigliosa Sto dissando e reagendo Il quadro dietro? È strana l'immagine di questo tizio Perché in realtà tra il quadro La giacchetta Lo stile Non è la solita Non è la solita immagine Da finto uomo d'affari Forse questo è un reale uomo d'affari Che si finge giovane artistoide Non lo so Più di un anno e mezzo mi permette Tra l'altro Voi lo vedete Qua c'è un telo verde Cazzo mi giro Potrei essere Un giorno mi vedrei Un giorno Quando questo canale sarà sparito Mi vedrete riapparire Così Con i capelli tinti Tirato A fare una di queste pubblicità Capirete che qualcosa è andato storto O forse in realtà molto bene Chi lo sa Lo scoprirò Raga ma i bonifici arrivano tutti Ah no Mi? Ma una marea di soldi Ma sono tantissimi soldi In maniera costante E replicabile Guardate quanti soldi erano al mese E non posso andare indietro Quanti soldi erano al mese No scusate raga 10.000 Va bene 10.000 In maniera costante E replicabile Ma vi rendete conto? Ma non sono tanti Mi sembrano tanti Questa skill Mi ha permesso di finire su Millionaire Ed essere definito Come la nuova faccia Del business online Millionaire L'ha definito La nuova faccia Del business online Ma lui Pur guadagnando Queste cifre Ma lui sicuramente di più E le prove tangibili Ha preferito Donare a noi i soldi Ma non è Io ogni volta Veramente Cioè altro che Madre Teresa Io ogni volta Che vedo questi personaggi Mi commuovo Ci vorrebbe veramente Una fiction Stile canale 5 Rai 1 Io mi commuovo Io mi commuovo È bellissimo Stessa location Stesso vestito Nella rivista Infatti Infatti Ha detto che online Non si guadagna Cosa vi devo dire È un nuovo schema Ponzi Ovviamente Ma non è che ci siano Non è che ci siano dubbi Avevi fatto una ricerca Anche su Mi ricordate l'altra volta Che non so se eri tu Ma qualcuno ha fatto una ricerca Sull'altro Che era un tizio Che aveva dei precedenti Pesissimi Droga E quant'altro E su questo Lupo e Roll Sono appeso Al tuo sapere È straordinario È straordinario È straordinario Esatto Umberto Smile Esatto Evanissant Arrivo Sento che Ragazzi Vi hanno trovato Da cane Da tartufo Fattura Fattura Spacca in due La sua industria Perché Mario Liberatore È il principe del marketing Lettera e filosofia Giornalista professionista Si occupa di gossip Da sempre Diventando un punto di riferimento Nel jet set televisivo Collabora con Libro Il tempo Nuovo Cairo Editore Non spiega la famiglia RTL Non c'è nessun articolo Millanta Anche di essere stato Su solo 24 ore Nel suo sito Ok Milionare Solo 24 ore Ma quindi Non è vero No ma è allucinante Ma d'altra parte Siamo Ragazzi Qui Qui L'ultima volta Mi potete aiutare A ricordare Di che cosa Ci siamo occupati L'ultima volta Che abbiamo aperto Libro Quotidiano A un vuoto Che cosa Che cosa era Che cos'era Erano i petti Di Biden Esatto E non ha nulla Che vedere con il dropshipping Con il trading Con Amazon FBA Con il self publishing Eccetera E' un qualcosa Che letteralmente Il mercato Sta richiedendo E che paga tantissimo E nessuno Ci si sta buttando Quindi Ma pensa C'è una cosa Che il mercato chiede Paga tantissimo Per ragioni forse Di rincoglionimento globale Nessuno ci si butta Non è incredibile E lui decide Di donarci Un sogno Un sogno Però l'articolo di libro Lo diceva Luper Roll Tutto quello che devi fare Cliccare sulla lezione E scoprire Di cosa si tratta Ma pensa Mamma mia E sempre comunque ragazzi Bisogna avere una prece Un minuto di silenzio Per il target Di queste pubblicità Che clicca Veramente una prece Su nel cielo Un'ascensione Della Madonna Per questi Mamma mia Che amare C'è sempre C'è sempre Un'apertura Di amarezza E ti assicuro Che non ci metterai Mai la faccia Per dirti Un qualcosa Che non funziona Ok Quindi tutto quello Che devi fare Ed accedervi E troverai davvero Tantissimo Tantissimo valore Al suo interno Più che altro Troverai il modo Di fare 10.000 euro al mese Costanti e consistenti Com'era? No Ah Google lo pensa Però una volta Abbiamo cliccato Su quel tizio lì Ed è sempre per quello No la freccia Indica Indica fuori La freccia Nella nostra Indica me Vedo che indica direttamente Quindi se so La freccia mi indica Quindi voi la vedete lì Speravo Sinceramente Che indicasse la chat Perché avrebbe voluto dire Devi bannare qualcuno E allora Ve l'ho potuto mettere il tasto Siete sempre Dei poveri comunisti Oh Dio 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 Comunque Niente Ah sì botanica Mi fa molto piacere Mi fa molto piacere Insomma ragazzi Questa vabbè È la faccia di Fini Fini Accidenti Dario Secondo me Rimarreva un pochino Però lo facciamo Stasera 20 e 30 Qui in live Per un watch party Con cose fighe Film Se si fa Film bello Roba bella Non guardiamo delle stronzate O anche se sono delle stronzate Ci facciamo mille gag In realtà In realtà C'è esatto Cioè in realtà sarebbe veramente In realtà ragazzi Sarebbe da fare una cosa Tipo Natale a Maie Lo so che era l'occasione D'oro per della cultura O il grande Lebovski Che mi piace molto Però sarebbe anche Da fare quel Natale a Meloppius Ma c'è roba di quel genere No Madonna Sarebbe da Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia I sette samurai O Boldi e De Sica I sette samurai Lunghetto O Boldi e De Sica C'è anche i fascisti su Marte I fascisti su Marte Che carino Però dopo un po' Non lo so Stasera vediamo Secondo me sarà una monnezza Se Allora Apriamo una parola Falso finale Se dovesse essere C'è un discorso brevissimo Se dovesse essere una monnezza Fare il watch party Noi dobbiamo decidere Che cazzo fare le serate Del lunedì Ammesso che rimangano lunedì Perché io ho visto che lunedì Faccio molta fatica Magari è più facile Che le esposti al martedì Non lo so Però mi piaceva E mi piaceva avere una serata La settimana E Dobbiamo Dobbiamo assolutamente pensare Letture potrebbero essere Ora sono un po' faticose Alla lunga Sono da fare con l'ispirazione Però bisognerebbe rifare Delle letture Garette Guarda ho staccato il volante Garette sarà due Vediamo Vediamo Ci pensiamo Qualcosa di videoludico La vedo molto molto difficile Platiniamo Ecco Lelex Forse in realtà hai ragione Platiniamo Genshin Impact Che credo sia impossibile Da platinare Correggetemi se sbaglio Non puoi platinare Genshin Impact Perché ne esce un po' nuovo Ogni tanto Platiniamo Platinette Questa mi piace Ragazzoli Grazie mille Per avere seguito Codesta Live Vi ringrazio molto Ci vediamo Questa sera Alle 20 e 30 Per non si sa assolutamente Che cosa cazzo succeda Vi ricordo che inizieremo Con una live normale E poi inizio a pistolare Magari prima mi sono letto qualcosa O forse no E niente E se no per oggi Ci vediamo Domani alle 15 Se non volete stasera Lezioni di matematica Falso finale Lezioni di matematica Serbe una ficata Ragazzi A stasera